In ogni caso sì, Splendori, purtroppo questa sera non ci sarà la musica di sottofondo da accompagnarci perché sto avendo dei problemi col copyright e vorrei cercare di capire se si può risolvere questo problema senza dover ogni singola volta, dopo ogni singola live, andare a contestare manualmente tipo 20 canzoni per ogni singola diretta. E' stupido che io debba farlo, a maggior ragione perché si tratta di brani royalty free di cui dubito una casa discografica con sede tipo in Sud America detenga i diritti. Mi sembra tutto così sbagliato, a maggior ragione perché poi i video e le live mi vengono demonetizzate e i soldi, se non contesto, vanno tutti quanti a questa casa discografica qui. Che ripeto, non detieni i diritti perché ogni singola volta che io poi le contesto loro dicono sì è vero hai ragione tu, ma allora cosa contesti a fare? E vabbè, in ogni caso, signori salve, buonasera, benvenuti a questa nuova live di FC24 e in particolar modo dedicata alla carriera allenatore con il Jagiellonia Bialystok. Ora, che squadra è il Jagiellonia? E' una squadra del campionato polacco, dell'extraclasa, ed è una squadra che ho deciso di prendere e portare sul tetto d'Europa, nel giro di svariate stagioni, siamo già alla terza e siamo solo alla quinta live, Ma lo dovremo fare gestendo gli acquisti in maniera particolare, e questo perché? Perché la nazionalità dei nuovi acquisti verrà estratta randomicamente tramite un sito, quindi all'inizio del mercato cosa faccio? Vado su questo sito, estraggo 5 o 4 o 6 nazioni, a seconda di quante me ne servono, e poi decido di, o meglio, e poi vedo di acquistare un giocatore per ciascuna di queste nazionalità che possa giocarmi o nella formazione titolare, o che possa fare da riserva a un panchinaro che dovrà per forza diventare titolare. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che, se decido di rinforzare il centrocampo, e in particolar modo il ruolo di centrocampista centrale, io, il centrocampista centrale che gioca in quella specifica posizione, lo dovrò per forza vendere. E questa cosa ho deciso di farla per obbligarmi ad avere un ricambio, un ricircolo di titolari, perché è irrealistico che una squadra non cambi neanche un titolare mai, cosa che accade spesso nelle carriere allenatori dopo due stagioni, alla terza hai già di fatto lo scheletro giusto, e devi modificare forse l'esterno, perché non è cresciuto come volevi, forse l'attaccante perché ti ha fatto schifo, forse il portiere perché è troppo scarso, però dopo la terza stagione sono tipo due gli acquisti che fai per la formazione titolare, gli altri sono i panchinari che cambi. Invece qui mi voglio obbligare a vendere i titolari. Ok? Ok. Detto ciò, le prime due stagioni abbiamo fatto turbo schifo, ok? Il primo anno siamo arrivati noni, decimi, il secondo anno siamo arrivati ottavi, ma soltanto perché abbiamo simulato le ultime cinque direttamente da calendario e le abbiamo vinte a caso, altrimenti saremmo stati quattordicesimi e con merito. Ma il problema è che non avevamo un portiere, ma proprio per la ragione che vi spiegavo prima, cioè che abbiamo trovato come nazionalità tra quelle che dovevano avere i giocatori acquistati il Nepal, ok? Quindi nazionalità nepalese, e l'unico giocatore nepalese presente in game è un portiere, che però è un 58 di overall, era, adesso è anche calato perché ha tipo 38 anni, quindi cala automaticamente per quel motivo. Però, ho dovuto dar via il mio portiere 72 di overall per prenderne 1,58. Il titolare era un 59 che è cresciuto a 62 entro la fine della stagione, e saprete benissimo, anche meglio di me, che quest'anno se non hai un portiere non vai da nessuna parte. Ora però il portiere ce l'abbiamo perché nonostante la ruota abbia provato a tradirci selezionando Andorra come nazionalità di uno dei giocatori da acquistare per la stagione numero 3. C'è un solo giocatore proveniente da Andorra in tutto quanto il gioco, ed è un portiere, Iker Alvarez, giovane e anche buono. Tant'è che abbiamo fatto il mercato, e devo dire che, a parte che non si vedrà niente qua ovviamente, perfetto, devo dire che il mercato è stato un successone, e lo è stato perché ora la nostra formazione è la seguente. Abbiamo Iker Alvarez in porta 71 di overall, difesa 3 con Vidovic, Czapcet e Kamberknecht, rispettivamente polacco, francese e cingalese, quindi dello Sri Lanka, CDC di Singapore, i due centrocampisti centrali che sono uno della Tunisia e l'altro del Ghana, il COC Listes che è ungherese, sulle fasce abbiamo Sacek, Repubblica Ceca, giocatore realmente militante nel Giaghellonia, e Viktor Djukanovic con il nome molto equivocabile, ma comunque un attimo acquisto dall'Ammarby, 74 di overall, Montenegrino, e punta centrale abbiamo Afimiko Pululu, Pululu è l'unico inamovibile, l'unico che non rispetta le regole che ho detto prima, ok? Per il resto anche la panca non è male, perché vabbè abbiamo Piekutowski come secondo portiere, quel maledetto Limbu come terzo, abbiamo un austriaco Ibertsberger che mi entra dalla panchina come terzino, Skripchak che non è male come secondo difensore, il mitico Iqbal Iqbal come terzino di riserva, CDC che fa da riserva di Zoo, abbiamo questo Veranus David dalla Namibia, 4 centrocampisti sono Alassan, Il Misunin, Guiamba e Yunus Sa, COC abbiamo Listes e Laranjero, e poi come sterne abbiamo Sacek, Toirov, Djukanovic e Naranjero, punta e Pululuudo. Ci sta. È un bel team, è una bella squadra. Uè, ciao Stella! È una bella squadra, con cui tra l'altro ho fatto qualche partitina off camera. Perché una sera ero qua, ho detto, ok ho finito di lavorare, voglio cazzeggiare un po', Così ho fatto, e signori, questa squadra è una schiaccia sassi. Dopo otto partite di campionato ne abbiamo vinte sette e ne abbiamo pareggiata una. E le ho giocate fisicamente praticamente tutte. Questa squadra può effettivamente ambire al titolo. Ma intanto direi di cominciare la serata contro lo Stalmielez. La formazione, non dico che sarà quella titolare per intero, ma quasi, farei giocare un paio di riserve visto che sono insomma... sono gli ultimi in campionato, perciò se posso permettermi qualche riserva me la permetto. Toirov dentro al posto di Sacek, Laranheiro, lo lascerei lì. Mi porto dietro alla Sun? Ma no, non serve. Poi torna Ranjo per Sacek, questo sicuro. Detto questo, 3-2-1. dai, giochiamo contro lo Stalmielez. E ripeto, perdonatemi, ma stasera non ci sarà musica in sottofondo perché non voglio problemi di alcun tipo con il copyright, perché la vita è una presa per il culo. Davvero la Sun, quella la Sun lì, ha giocato nel latina? Com'è che si chiama? eh, non l'ho portato dietro. Baba Al-Asaan, eccolo qua. Ho cercato su Soushiva, in realtà volevo cercare Transfer Mart. Eccolo qua, Transfer Mart. Ma tra l'altro mi segna qua che è alto 1,80m. In game è 1,87m. Ma che cazzo? C'è un errore di sbaglio, mi sa. Comunque, Baba Al-Asaan. Trasferimenti, vabbè, non mi interessava. No, è un altro Al-Asaan, mi sa. Sì, no, perché questo qua gioca in Romania. È partito dalle giovanili del Real Valladolid e poi ha giocato all'Ermanstadt e adesso alla Steaua, l'FCSB. Vabbè, signori, buonasera, benvenuti in quel di Bialisto, che esordio serale per noi. molto bene. E sì, ora sto leggendo che qualcuno di voi sta dicendo Mattia, potevi mettere Kammerknecht centrale che fa upgrade. Vero, ma poi non avrei potuto giocare con Ciappet. E soprattutto un buon centrale io ce l'avevo, Diegwetz, quindi avevo più bisogno di migliorare il terzino che il centrale. Quindi ho preferito tra virgolette sacrificare 1 o 2 di overall per quel motivo lì. Ah, sì, si vive. Va bene. Allora, io vi dico, off-camera hanno giocato quante? Boh, 4 di partite. Vinte 3, pareggiata 1. Ora che la squadra inizia ad avere un overall un po' più gesti... Ora che i giocatori hanno un overall un attimino più alto, la squadra è più gestibile nel senso che effettivamente i giocatori fanno quello che dovrebbero fare. Ok. Sono in grado di passare un pallone. Ce la fanno. Oh, ma in tutto questo, regà, domanda importante che mi farà sembrare un turbo coglione. Da quando è tornato Brawl Stars? Non era tipo finito il dimenticatoio. Grax a parte. Cioè, nessuno lo portava mo' tutti quanti a farlo, stanno, ma perché? Premesso, mai giocato e dubito che mi ci metterò adesso, nel 2024. Non l'ho fatto nel suo momento di massimo splendore, però... tieni la Victor. Bravo Victor Djukanovic. Lungo l'out di sinistra, rientra sul destro. Cross a cercare in mezzo Listes, troppo sotto. Kokalski c'è. E rip. È tornato perché hanno aggiunto le rank. Ah! Vabbè. Che potrebbe voler dire o morte definitiva del gioco o revival. Youtubicamente parlando, piccolo revival. Ma quanto durerà? Bella domanda. Zu. Bravo Nguiambar a recuperare il pallone dopo la deviazione del trequartista dello Stalmielez che chiude in difesa l'incursione di Nguiambar. Scrapchak si fa saltare da Ciz. Laszlo. Yaun Zems. Guardate che sarebbe imbarazzante se avessi detto raga è una corazzata. Siamo uno squadrone. Siamo una squadra fortissimi. Non ci batte, nessuno ci ferma, nessuno... E poi perdo contro l'ultima in classifica la prima partita di la serata. Sarebbe imbarazzante. È vero che è punizione mia? Grazie. Non ho ancora cenato oggi. No, 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 no. Oggi no. Mangierò forse durante la live. Se no dopo. porca puttana Pululu. Adesso inizia il periodo dell'anno in cui fa troppo caldo e quindi mangio poco e poco volentieri. Ok, brava Fimico. La tenuta Pululu. Ancora l'angolano. Dietro per l'iste. Sta al limite lungherese. Spara altissimo. Un cazzone. Sì? Grazie. Ve l'ho detto che sarebbe arrivata la cena ed è l'insalatone e fa troppo caldo per mangiare e nient'altro. Ok. Lo mangerò poi quando andrò a simulare la prossima partita. Per il momento concentriamoci. No, mi sono addormentato. Ciz. Bravo, Iker. Gran parata di Iker Alvarez. Badò. Maniche corte e pantaloncino sono fondamentali. Bravo, Iker. Bravo, Iker. Skripchak si autolancia. Ma viene bloccato poi da Guillaume Gettinger. Qua sul secondo palo buono Vidovic di testa. Ultima opportunità per noi? No, l'arbitro fischia alla fine. Ok, perfetto. Muy bien. Oddio. Che Iker Alvarez cresca non lo so, sai? Perché siamo alla terza stagione. È appena arrivato a 25 anni. premesso che un po' crescerà e finché non appare nulla di meglio me lo tengo, eh. Questo sicuro. Però sapete mi faccio anche zarblema a darlo via se è necessario. per Dukanovic bravo il 17 fino in fondo con la Dukanovic dietro per Pululu di prima intenzione. Palla in angolo dopo la parada del portiere era la Vidovic che io me mette fuori Dukanovic Guiambà si fa fregare da cheats. E però che sfiga sto rimpallo bravo Iberzberger la terza Icar ha 23 anni non 25 ah avevo letto 25 magari ricordo male sì comunque non non è più il portiere di 21 anni 70 che magari ti vai a prendere volentieri perché dici questo è buono questo cresce un 71 di 23 inizi già a guardarlo con occhi schifati un 71 23 su sto gioco purtroppo buono Dukanovic in profondità a cercare Pululu Affimico torna indietro dall'Istes vince due rimpalli Affimico incredibile può fare in angolo bello Vidovic dentro da Pululu Eman c'è è ancora nostra Listes minchia che liscio di Listes che Listes allora cambi dentro Naranjo per Toirov dentro il Misuni dentro Kammerknecht e dentro Iqbal per ora Breno Naranjero e Udo li tengo da parte chi è l'afgano è Iqbal Iqbal l'ho appena no non l'ho messo in campo però è lì c'è l'opzione c'è l'opzione Iqbal Iqbal o forse ce l'ho messo non lo so Vidovic a cercare Idris El Misuni chiude la difesa Listes ancora Listes l'allunga Djukanovic ribatte ancora il muro di maglia azzurre comunque loro hanno fatto due tiri il gol e un altro basta non li ho più visti lì in difesa eh peccato El Misuni bell'idea non proprio precisa precisa ma l'idea non era malaccia no Cic è passato Cic è passato Cic dai cazzo tre tiri due gol oh no vi giuro raga siamo una corazzata le ho vinte tutte ah gioco estrema raga no povero Idris perdonami ok vabbè ormai questa partita è andata al cesso come sempre su FC24 contro l'ultima in classifica quando ci giochi non puoi vincere ma un po' perché sto facendo cagare io eh probabilmente anche cheese e vabbè no se fosse entrato questo avrei pianto avrei proprio chiuso la live e ho detto vabbè oggi va così non ci provo nemmeno inizio a pensare che i miei siano timidoni mamma mia Breno 0-2 0-2 terribile 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 tremendo dopo il trasloco quindi a giugno classic in estate sono presente praticamente sempre nonostante la sconfitta rimaniamo sempre primi a più 2 sul rakov dai non male e contro Radu mi accrado un terzo ci vorrei giocare che ho anche fame quindi quasi quasi simulazione lenta e seguiamo l'andamento della partita se serve entro nel secondo tempo oddio Rocco in realtà così su due piedi non è che me ne vengano in mente tanti perché potreste dirvi i classici nomi iper mainstream cioè Job Bellingham Bergval Yildiz ma non mi pare di farvi un favore no e soprattutto quelli un po' più specifici dovrei cercarli ogni volta non ve li so dire io di mio il riassunto per coloro che si sono uniti da poco beh innanzitutto salve buonasera in secondo luogo ho giocato una partita contro l'ultima in classifica ho perso 2 a 0 via calcio di rigore concesso al radomi a crado roccia dal dischetto 1 a 0 grande citazione di 20 minuti fa siamo una schiaccia sassi entro e la rimonto qua comunque è incredibile ogni volta che parlo e dico qualcosa succede al contrario che lavoro volevo fare da piccolo mi avete chiesto dipende dipende dal periodo c'è stato il periodo in cui volevo diventare un cuoco salsiere il periodo in cui volevo fare il veterinario il periodo in cui volevo fare il dottore il periodo in cui volevo fare l'avvocato il periodo in cui volevo fare il criminologo il periodo in cui volevo fare lo youtuber questo è il periodo in cui volevo fare lo youtuber ma ti ho chiesto da piccolo mica sarò grande un po' che arrocia subito in aria bravo Kammerknecht quello è vero perdendo andremo a tenere vivo il campionato vincendoci porteremmo subito subito troppo avanti non è neanche divertente così avete ragione voi mettiamola fuori sta palla bravo sacce cosa hai fischiato ok fallo di mano bene Kammerknecht per favore dai stai tranquilla Kammerknecht ma perché ma cosa c'è ultimamente che devi rompere le balle ogni volta oh ah non l'ha mangiato il mio pane è mio ma perché dai Kammerknecht Claudio porca puttana mi sono fatto gabbare così dal signor Semedo ripartono quelli del Radomi Akradom con Donis Ross il dribbling di Rosso Pululu Donis ancora con calma riparte la formazione di Verde Vestita Pululu recuperiamo Afimico cazzo Afimico Giordao Bravo Zu Alassan Pululu il tocco per Sacek il verticale va a cercare Listes Listes il tocco corto per Pululu non avrei dovuto avrei dovuto puntare la porta con Listes diretto e vaffanculo è meglio il campionato a 20 squadre con 3 punti vittorie con gli anni 70 a 16 squadre con 2 punti vittorie ma scherzi 3 punti se c'è stato questo cambiamento e non si è tornato indietro in 40 anni un motivo c'è Ciappet Vidovic Bravo Djukanovic ancora Vidovic e il Mizuni Apri per Kammerknecht Baba Lassan e il Mizuni Pululu ancora il Mizuni cerca Pululu pallone deviato dalla difesa ribattuto poi sui piedi di Vidovic Djukanovic e il Mizuni intervento pulito minchia complimenti perdiamo anche questa Esci Micker Bravo Che tiraccio Fimico Madò Che video sarà? Non è un video è una live ragazzi non tutte le live diventano video non tutti i video sono presi dalle live sentite il fallo? Buono Cazzos I miei genitori sì che hanno avuto da dire ma è comprensibile dal loro punto di vista era un gigantesco salto nel vuoto era per loro l'equivalente di un ragazzo che dice papà voglio fare la rockstar ma ce la fai a vivere? Eh al pelo che idea del cazzo fra continuo all'università concettualmente posso capire che fossero un attimino scettici ma ora sono tranquilli è comunque altra sconfitta questo giro però non mi voglio prendere responsabilità dato che abbiamo perso una zero ma il gol abbiamo preso su rigore in un primo tempo simulato e quindi dopo aver detto che questa squadra era una schiaccia sassi eravamo diventati imbattibili eravamo fortissimi eh ne abbiamo perse due molto bene stiamo andando alla grande il trasloco è iniziato indirettamente nel senso che abbiamo iniziato a fare cartoni scatolone cose varie non abbiamo iniziato a spostare fisicamente le cose da una casa all'altra ok comunque con questa sconfitta veniamo superati dal rakov di un punto eh ma veniamo pur sempre superati quindi direi di giocare anche questa nella speranza che non avvengano più buttarate vero? vero? vai hello grazie gioco pallone d'oro a pululu se intendi irl magari in gioco ci proviamo madonna oh che partenza tremenda vi prego vi prego l'altra sera quando ho giocato eravamo fortissimi che è successo da allora è il fatto che sono in silenzio e quindi sono tutto concentrato su come muovi giocatori in campo possibile ma porca minchia maicord oscima rosga ancora mano di sacek non l'ha fiscata l'arbitro possiamo uscire dall'area di rigore nostra oh grazie cia pet yukanovic pululu di ritorno dal giocatore ex ammarbi che adesso allarga da vidovic vidovic ghizza interviene ancora yukanovic pululu e il misuni babalassan finta di tiro è giocata kammerknecht cross un secondo palo kajard esce bene il portiere l'ho cambiato siamo nella terza stagione finalmente abbiamo un portiere buono abbiamo un ikera alvarez che il campionato polacco è ottimo mano ma come non è la mano quello ha parecchemente presa col braccio nel controllarle per metterla giù sono fischiato tutto scemo ma allora guardate la cosa dell'usare le nazionali in carriera è caruccia se ci devi fare tipo se vuoi fare il contenuto in cui vinci il mondiale con nazionale A o nazionale B o l'europeo fine tutto il resto è assolutamente inutile purtroppo ah lì Lister c'era arrivato l'ha colpita malissimo Otanasov Oshima Kalman Maigord bel dribbling bravo Kammerknecht signor Victor che cazzo hanno visto i miei occhi bravo Zu ma cosa fai ma dalla lunga in profondità bravo Idris e il Misuni ci arriva Cagliar allora calcio d'angolo Vidovic della bandierina verso la testa di Victor Djukanovic arriva il portier Listes mette giù ancora il Misuni carica ancora al destro il gran botta ancora Cagliar maledizione Vidovic dentro per Djukanovic Cagliar con la terza parata di fila terzo calcio d'angolo rimane su la formazione giallo-rossa con un altro cross Oshima mette fuori Zu col petto di controbalzo ci prova Zu centrale quarta parata per Cagliar si chiude ora l'offensiva del Giagliallonia prova a respirare il Cracovia ma sbaglia tutto il Misuni gran palla per Pululu affimico col mancino di prima intenzione ancora Cagliar ma che palla di il Misuni Vidovic questa volta va un po' più alto al centro dell'area da Ciappet Cagliar fuori Pululu ho fatto otto tiri negli ultimi cinque minuti otto ne avrò fatti buono listes Gita Cagliar in intervento 0-0 dopo il primo tempo stiamo giocando nettamente meglio del Cracovia però ciao Mekalos che per chi mi segue lo saprà è la mia preferita per quello che riguarda entusiasmo hype e quant'altro diciamo che sono molto cauto dopo gli ultimi progetti di questi ultimi anni non voglio sapete farmi prendere dall'hype e poi rimanerci male quindi dico cauto hype bella l'idea però non sappiamo ancora un cazzo quindi è inutile hyparsi per una roba di cui non sai nulla hai solo il titolo è un po' come The Elder Scrolls 6 di cui abbiamo avuto un trailer nel 2019 e ancora non sappiamo niente neanche un titolo neanche una regione in cui è ambientato nulla tra l'altro il trailer erano 20 secondi con un'inquadratura che volava sopra Skyrim e oltre le montagne a nord-est della regione di Skyrim mi pare e basta non vedo nient'altro cioè che cazzo c'ho da essere hypato si la Tyrlock torna a giugno raga dopo il trasloco i primi di maggio dovrebbe uscire il video riassuntivo dei miei fallimenti in quei primi tentativi i primi 14 quanti sono stati e poi non era fallo va bene ci sta era pulito e quindi si il 10 il 10 il 15 adesso non ricordo il giorno esatto dovrebbe uscire il video e poi a giugno riprenderà la Tyrlock Oshima MyGuard bravo Zuu cosa ha fischiato? no ma questo è un coglione Atanasov il numero 6 supera la barriera Sacek c'è Sacek Listes cambia gioco Vidovic la lascia scorrere poi la mette giù ancora Vidovic ma che merda oh che merda raga per favore quale materna andavo bene quale faccio schifo beh raga io avevo la media dell'8-9 praticamente quindi non c'era una materia in cui vi facessi schifo la peggiore era la tedesca avevo 7 presi in controtempo Sacek Rosga Skovgaard Oshima Skovgaard ancora la sventagliata Vidovic di testa Alassan bravi noi bravi a ripartire Zu ma che cazzo c'hai al posto dei piedi per favore buon uomo Sibaba Sibaba Sibabalassan Sibabalassan no Babalassan buon uomo famosi giocatori scazzati perché perché hanno pareggiato una e perse due nelle ultime tre sto per pareggiare anche questa cc ripigliatevi ne abbiamo vinte sette prima c'è un secondo in campionato Idrissa un secondo barra terzo dipende da da questo pareggio che mi porterà a 23 punti e soprattutto dipende da quello che fa Radom a Kradom ma anche se dovesse pareggiare il Rakov forse gli rimango davanti eh chi lo sa Widowik Yunus sa buono ancora nostra pam niente niente sono diventati stupidi tutti quanti tutto ad un tratto non ci fanno più a fare un cazzo Konoplia No c'ha pet Oshima Bravo Elmizuni 0 a 0 ancora una volta a secco non riesco a segnare stasera sono in difficoltà sono proprio a secco a secco il Suttiro nei prossimi dieci anni ce lo vedo in A no ma ce lo vedo che può lottare per l'A e quest'anno invece lo vedo perfettamente in linea con le aspettative cioè salvo senza playoff senza playout ok siamo ancora a secondi a meno uno da Rakov che a sua volta ha pareggiato quindi almeno quello mi dà un po' di sollievo tocca al poco un stettino settimo con 16 punti mentre siamo stati superati da metà campionato dobbiamo giocarla e vincerla questa stiamo perdendo lucidità per qualche strana ragione vai vasminotel no non l'ho guardato ma non perché io schifo perché semplicemente non mi andava di guardarlo in questo momento magari lo guarderò tra due anni e dirò era carino effettivamente io purtroppo sono fatto così quando esce una cosa a meno che non sia un qualcosa per cui sono già in hype prima dell'uscita che quindi attendo con trepidazione difficilmente la guardo la gioco la vedo subito appena esce poi vi dirò la verità a livello di serie tv cinema film non sono mai stato uno di quelli che dice ah cazzo c'è questa nuova serie la devo guardare al day one c'è un film devo andare a vederlo subito al cinema al cinema vado a vederlo se ho modo di farlo ma verso la fine probabilmente le proiezioni con la sala un po' più vuota un po' più tranquilla la situazione raramente mi sono ritrovato a dire uh bel film andiamo a vederlo appena esce l'ultima volta che l'ho fatto è stato forse appena appena uscito con The Hateful Eight nel 2016 otto anni fa potrei toccare la palla siamo al decimo minuto ancora non l'ho vista bica caccia 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 bravo Alvarez finalmente ok posso dire che è stupido il fatto che io perda lucidità con dei giocatori che giocano tutte le partite e se me le giochi tutte non dovresti perdere lucidità anche se il programma è impostato su energia è più importante che mi recuperi l'energia visto che giochi sempre se non giochi ci sta che io ti abbia sparato tutto su lucidità tanto dell'energia non le sprechi grazie Katu per l'abbonamento benvenuto tra i pepegotti thank you bello vi ricordo che se mi volete supportare avete due livelli di abbonamento ci sono i pepegotti costo 3 euro con i quali o meglio con il quale come livello abbonamento avete emot del canale baggio abbonamento la possibilità di riguardare le live direttamente dal mio primo canale cioè Tearless Raptor senza dover aspettare il re-upload sul mio secondo canale sia Tearless Live e infine l'accesso alle stanze presso i sub sul server Discord mentre intanto la Sun è partito con l'abbonamento premium oltre a queste cose qui avete anche una partecipazione più diretta ad alcuni contenuti che sia tramite sondaggio per decidere quale video fare o che sia tramite come se dice o che sia tramite tipo la partecipazione proprio fisica dei video c'è anche questa opzione qui ora vi dico anche che i premium in questo periodo nell'ultimi due mesi da quando sono diventato papà sono stati leggermente trascurati ma perché di grossi progetti come quelli che avrei in mente da da fare per coinvolgere gli abbonati premium non li posso fare in questo momento col con la presenza di 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 bimbep e soprattutto col trasloco in arrivo ormai imminente perché è un mese manca un mese il trasloco zahovic palla per numero 10 valquist no il po' costantino sta tenendo palla in maniera incredibile cosa è successo cosa cazzo hai fischiato coglione claudione kammerknecht la tiene dentro il cingalese va a cercare pululu c'è zek ma è una toccata prima però fai cazzo che ti pare leonardo alassane mette fuori bravo sacek michel alvarez lungo a cercare pululu la sponda di afimico non lo capisce nessuno bravo smolinski non mi sono avvicinato all'orare di rigore non ho fatto mezzo tiro hanno tenuto palla tutto il tempo avranno il 70% di possesso palla quelli del poco in stettino e poi si stanno chiudendo bene vidovic clebaniuk con la prima parola della partita però la vidovic della bandierina mancino di uscire verso la testa di afimico pululu zaovic c'è diukanovic il primo sulla palla va il montenegrino col destro ancora clebaniuk fine il primo tempo peccato bello l'adelaide ci sta cominciare da questi campionati ma guardate che prima o poi una carriera giramondo la voglio fare anch'io perché è carino il fatto di partire da un campionato basso di basso livello proprio tipo il campionato australiano il campionato irlandese e poi risalire la china per arrivare a giocare effettivamente nei top campionati cambiando squadra di volta in volta è bellina come cosa carriera itinerante piacerebbe anche a me buono il pallone per Sacek tienila non ce n'è anche arrivato Smolinski Zauvic Prisborek Prisborek Zou buono per Baba Lassan Sacek cross il secondo palo a cercare il Vidovic ce l'abbiamo ancora noi l'Istes e il Mizuni Vidovic dentro per Djukanovic Djukanovic palla sul mancino deviata da Zek e allora ancora calcio d'angolo ci siamo risvegliati Vidovic da Pululu Klebaniuk Klebaniuk ma dopo Pululu calza la Champions Asiatica bellino Vidovic Valquist 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 Djukanovic torna indietro Vidovic ancora la tocca col braccio l'arbitro lascia correre l'arbitro lascia correre buon finito cazzo vai Ciappet vabbè questo qua ha sbagliato il controllo ed è riuscito a superarmi in quel modo ridicolo Smolinski Kutris bravo Sacek bravo Sacek bravo Afimiko con un po' di garra siamo riusciti in qualche modo entra in area di rigore Pululu fino in fondo dentro dall'Istes Klebaniuk ancora è incredibile Alassane Pululu La sterzata di Afimiko Cerca il Misuni Ulvestad capisce tutto Bicachakachakachakachachaka Ciappet Grande intervento difensivo del francese Ancora Bicachakachaka è nostro Cambi Mamma mia Che difficoltà in queste partite in questi game in Tribert Berger per Kammerknecht va bene così però si così Silistes per Pululu Afimico, Afimico Afimico finalmente andiamo in gol questa sera ci sblocca proprio lui il numero 10 il nostro capitano l'angolano Afimico Pululu grazie Portier incommentabile 1-0 giochellonia e il pressing è servito bianco stretto all'errore il terzino centrocampista del Pogonstettino sinceramente non non ho controllato Baba Lassan subisce fallo prenditelo grazie non era un tiro era un cross è andato troppo forte volevo un gol di memoria pepegaim del pepegaim no da insapore pepegaim in salsa pepegaim non ce l'ho fatta Zauvic di che città è di Bialistoc che non si pronuncerà mai Bialistoc ma è quella si scrive in quel modo Bialistoc che sta tutta a est praticamente al confine con la Bielorussia Zauvic Va via Ciappet Iker Alvarez risponde presente Ulvestad sul fondo Ah se avessimo avuto Abramovic qua Se avessimo avuto Abramovic Sarebbe stato 1-1 Iberzberger in qualche modo Passiamo Toirov perde palla Leo Borges Zauvic Kurzawa Leonardo Bravo col fallo tattico Vidovic Bravissimo Mi sei piaciuto Vidovic E infatti finisce così Giacchellonia 1 Poco un settino 0 Ah non è finita Ora è finita Ora è finita Ora che recupero palle posso andare a calciare Bastardo Vabbè comunque molto bene 1 a 0 Con un gol fortunato di Bululu Ma questa cosa ci sblocca E ci permette di riprendere un attimino La nostra marcia trionfale Vediamo Qualche giocatore per la B E' già in serie B Ma te lo dico Simone e Davi Sono di parte? Sì Però ci sta Ok Dai siamo terzi A meno 1 dal Rakov In questo momento Il Radomia Cradon Ci sta davanti per Oh Ci hanno battuti Quelli del Radomia Cradon Sì ci hanno battuti Scontri diretti Piast Gliwitz Ma allora Sentite Sono Penultimi E ho fatto bene Sacek Pulululistes 3 a 0 Netto sul Piast Gliwitz Bravi Regatz Tre punti importanti Odio il Genoa Così se me lo dici Non lo sapevo Che avesse giocato anche una Una partitona ad Anfield In passato Magari per FC25 Me lo tengo a mente Del Morcamp Bella squadra Cioè ignorante il gamberetto In logo Quello sì Bravo Pululu Con 10 in 13 Bomber del campionato Insieme a Ishaq Dell'Ekpoznan E ora c'è lo Zaglebi E Lublin Contro cui vorrei giocare Per provare a risuperare E Marrakov è sempre là Mannaggia la puttana Dai Andiamo Cambiando le magliette Vi prego Perché se no non si capisce niente Ma guardate che Listes L'anno scorso Faccia proprio cagare il cazzo Ma toh che maglie di merda Ma questa è la combinazione Meno peggio Ma che maglie di merda Che ha il Lublino Ma non perché Siamo brutti i colori Arancio e giallo Arancio e verde Ci stanno ancora Ancora come colori Cioè non sono male Ma quelle tonalità Per le due magliette Sono tremende Chissà l'Ina come seconda Cazzo io avevo detto Il Parma seconda Col Palermo primo Il Palermo sta crollando Sempre di più Boraccio Ehm A questo punto Penso al Como Di quelle che ho visto Giocare contro lo Suttirol Il Como La più tosta Voi dire Sì ma Cioè il Venezia Ha vinto 3-0 Tier Come fai a dire Che è piuttosto al Como Djukanovic Peccato Ehm Il Venezia Ha fatto un gol E poi due In contropiede Con il Suttirol Tutto avanti La ricerca del pareggio Partita viziata da E sapete che Non sono solito dirle Queste cose Un arbitraggio Molto severo Nel senso che Masiello È stato espulso Per essersi scansato E cercando di evitare Un tizio che poi Gli ha franato addosso Ehm Poi il Suttirol Ha fatto tipo In totale In tutta la partita 10 falli Cartellini gialli 8 Compresi 2 Rifilate a Masiello Per il doppio giallo Ed espulsione Capite bene che Insomma Partita strana Per il Suttirol Che però Ha preso 2 gol In contropiede Quando stava cercando Il pareggio Mi è piaciuto Molto di più Il Como Come si è imposto In campo Quindi secondo me Solo guardando quello Vi dico Como Perché io quelle partite Guardo Quelle del Suttirol Poche volte Mi capita Di buttare occhio Su qualche altro game Jason Mroz Perché l'MK Don's È così odiato Allora Spiegato da un ignorantone Tra parentesi Spiegato male Da un ignorantone Ehm Praticamente Un tempo C'era questa squadra Chiamata Wimbledon Situata A Londra Che a un certo punto È stata acquistata Da Ehm Dei proprietari Molto ricchi Da quel che so Questi proprietari Invece che Tenere la squadra Lì a Londra Vaffanculo Nel quartiere Nella zona di Wimbledon L'hanno presa L'hanno spostata A Milton Keynes Che è tipo A nord di Londra E quindi In questo modo Diciamo L'hanno ribrendizzata Hanno cambiato il nome Hanno portato via Una squadra Dai propri tifosi Da una squadra amatissima Ehm Per questo motivo Niente Ora è odiata Perché praticamente Ha rubato Rubato Tra molte virgolette La storia Delle vittorie E i successi Del Wimbledon Che io sappia A livello Di storico Di record Di storia La storia proprio La storia del Wimbledon Come squadra Non è legata Al Wimbledon Che esiste adesso È legata All'MK Donnes Ma i tifosi Del Wimbledon Di Trent'anni fa Non tifano MK Donnes Tifano il Wimbledon Di adesso E quindi Tutti gli inglesi Lo odiano Per questo motivo Carca puttana Peccato Bravo Listes Con Un bel dribbling In area Per smarcarsi Peccato che abbia risposto Presente il porter Del Wimbledon Fallo di Kammerknecht Giallo per lui Vorrei dire Guarda che se mi da il rosso Mi incazzo eh Ok Ho dato il giallo L'ho accetto Mrozz Ciappcet Nalepa Bravo Iker In due tempi Allora Odio è Allora Vi dico Parlare di odio In queste occasioni Mi sembra una stronzata Il fatto che ci sia del Dislike No Che alla gente Non piaccia il Wimbledon Per quello che simboleggia Capisco Soprattutto se sei un tifoso Del Wimbledon Che ti vedi la squadra Strappata Dalla città Portata via E te la vedi anche Cambiata completamente Loghi Non loghi La storia Cioè tutto Cioè rimane Hai perso la storia Si sono tenuti la storia Ma si sono portati via la squadra Ma infatti Sono nello stesso campionato Wimbledon e Dons Quest'anno Il Wimbledon Ha vinto 1-0 Tipo al 94esimo minuto Con un gol All'ultimo secondo Il casino che non è partito Nello stadio Perché poi Cioè In serie B In serie C e D Inglese Ci sono quasi più spettatori Che nella serie B Italiana Nella quarta serie inglese Ce n'è più che nella seconda italiana Quindi capite bene Che disastro Un buon affimico Ma quello lì A me L'avresti fischiato Come rigore contro Comunque Figlio di puttana Di un arbitro Mi è franato addosso Dopo che ho calciato Con Listes Se quello non è rigore Luis Mata Kokaba Bohar Bravi con il Misuni Listes Per Pululu Bravo affimico Ad andar via l'uomo Affimico col destro Gran giocata di Pululu Undicesimo in campionato Per l'angolano 1 a 1 Giaghellonia Bene così Bella la giocata Messi o Ronaldo Domanda difficile Quindi ti risponderò Dicendo Stefano Sturano Come lienzo in campionato Att Light Per l'angolano Cambio Lars Immun Qui Pi Pin crew Per l'angol puttana Bohar Per Adamski Damroz Fuole a cercare Luis Mata Cross il secondo palo No Cazzo qua è errore mio in disimpegno Gliel'ho passata io Qua ho proprio sbagliato io come un coglionazzo Vidovi che cia pet che fanno i deficienti E poi Baba Alassane che sbaglia tutto Dentro un po' di giocatori nuovi Dentro Breno Laranjero Per Sacek Vai così Però la va bene Oddio allora Premesso che Leverkusen pare Pare instoppabile Pare imbattibile quest'anno Io spero che l'Atalanta ce la faccia Sarebbe clamoroso Cioè io Avevo pronosticato ma sì Purtroppo per quanto mi piacerebbe vedere l'Atalanta passare contro il Liverpool La vedo tosta 3-0 Ora vedo quasi più tosta una rimonta del Liverpool Cioè è difficile che I Raids a Bergamo ribaltino il 3-0 Non impossibile ma è difficile Poi possono anche farne 7 Perché il Liverpool è così No ho sbagliato Però Never say never Cazzo Vidovic Oh non riesco più a fare una sega Bene Oh avete rotto il cazzo Ma cioè potete fare Giocare normalmente Non far melina Fottetevi nel culo Bastardi 2-2 Bravo Listes Oh ma che due coglioni questi che tornano indietro per perdere tempo No è insopportabile 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 sta puttanata No 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 Ho premuto cerchio per spazzare Io ho premuto cerchio per spazzare Perché è in scivolata Idris Idris perché Ma che cosa ti fa pensare che sia giusto entrare in scivolata lì in quel momento Vabbè Pronti a perdere contro il Zagleb Il Lublin Imbarazzante Fastidioso la loro melina Imbarazzante il fatto che alla fine con la palla vicino ai miei piedi Io dica Ah Cerchio per spazzare Scivoli Ma perché Coglionazzo E tutto questo Siamo scivolati clamorosamente addirittura al quarto posto Ma ora dobbiamo giocare contro l'Eck Poznan Per riguadagnarci il primo posto in campionato Favamo la conferenza stampa Così gli diamo la botta di morale a sti stronzi Mamma mia Ma come non è stata la miglior partenza Farà su un quarto Sono due anni che dopo sei giornate sono undicesimo Per favore Va Vai Sì no comunque Questa qua è la prima volta che mi capita Comunque che cerco di spazzare E mi va in scivolata È la prima volta in Tante ore di gioco che succede Quindi Amen No 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 Ma la melina mi stava dando un fastidio Odio fare melina io stesso Per quello vi dico Non è Non è una questione di Sono io che La faccio E poi però mi lamento Quando viene fatta dalla CPU No 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 Non la faccio neanch'io Se non per Due minuti Cioè non inizia a portarmi La palla nella mia area di Nella mia metà campo Al Settacinquesimo Dopo aver fatto il 2-1 Inizia a farlo All'ottantottesimo Se devo difendere una partita sudata Ma fine Perché mi rompo i coglioni a giocare Semplicemente Belde Murawski Dentro per Otic Ma porca puttana Non ho ancora toccato La palla Dopo averla persa all'inizio Minchia signor Milic Con la spalla Proprio in bocca Mi sei arrivato Idris El Misuni Apre per Listes La sponda per Sacek La mette giù il cieco Chiuso da Anderson I miei giocatori Sono diventati rincoglioniti Non sono più in grado Di stare in campo Ishak in verticale Per Otic 2-0 Vaffanculo Due tiri Due gol E mi dà fastidio Perché dovevo continuare a giocare L'altra sera Oh Ne ho giocate 4-3 Ne ho pareggiata una Vinta le altre Ma comode Non so se è perché Sono qua da solo Nel buio della stanza Quindi dico Vabbè faccio il cazzo Che mi pare E quindi sono più Concentrato sul gioco Però mi sembra stupido Buono Dai cazzo però Zu Gio è il Pereira Bravo Vidovic Oh ma porco Oh ma porco Oh mio Dio Sì Vidovic Sì in verticale Per Idris Se il Mizuni Sbaglia tutto Errore mio Qua sono scemo Io a volte Che sbaglio Devo andare fino in fondo E poi passarla dietro Oh non rompete il cazzo Con stati Ficol B Sono rotti i coglioni Di fare le carriere Ogni volta E dico No Non è quello E rompete i coglioni Con le solite due cose Io non so neanche Se voglio più farle Ormai Perché già c'è il gioco Che mi scassa la minchia Se vi ci mettete pure voi Regà Ma cazzo Quante volte a live Lo devo dire Palla mia però Vero Mi hai tolta quando Eh Grazie Buono Ciao Pet Che tu Coglioni Però Bravo Hanno smesso di saper giocare Hanno smesso di saper giocare E non me ne è capacito Bah Bah Controllo perfetto Vabbè la palla sarebbe finita Katmandu Minchia Oh Non si può far nulla E' quella partita Che il gioco dice Ok Sei pronto La prendi nel culo Devo iniziare a riallenare La sharpness dei miei Devo fare tipo Se c'è una settimana Dopo questa partita Prima della prossima Devo Devo fare i primi tre giorni Di Recupero energia E poi tutto quanto Sulla sharpness Sulla Lucidità Per la partita Perché non è normale Torniamo un po' di più Eh la prossima volta Mi raccomando Signor Kammerknecht Io aspetterei altri 4 secondi Per di far partire il passaggio Ho la switch Però io gioco principalmente Da pc Ma perché Ma cosa c'hanno in testa La segatura Quanto vorrei bestemmiare In questi momenti Quanto vorrei bestemmiare Ah Ah È incredibile Borowski Qua adesso sto tentando le scivolate Cazzo di cane Minchia Leggono ogni singolo passaggio Che sto per fare Prima ancora che io lo faccia Partitaccia Non so che cazzo dirvi Partitaccio 4-0 Sembrava che non sapessi neanche allacciarmi le scarpe Con sta squadraccia Non so che cazzo dire Proviamo a ribustargli la lucidità Mi sembra stupido Che io ogni volta debba alternare Tra Lucidità e forma fisica Lucidità e forma fisica Dio santo Mr. Combat Mi spiace Ci rivediamo settimana prossima Mi avete rotto il cazzo Con sta cosa Della bassa difficoltà Oh 20 volte live Lo devo dire Che due coglioni Beh magari la prima volta Che lo dici in assoluto Mi hai rotto il cazzo Tu come esempio di tutti Basta Buono Ora siamo di nuovo Tutti quanti In forma Vero? Vi conviene Caro Slask Vroclav Salve Ho bisogno di piallarvi brutalmente E Sacek non si è ripreso Perché? Vorrei saperlo anch'io Dentro Toirov dal primo 3, 2, 1 Bop Speriamo che sia la partita giusta E voglio farne almeno 4 Cazzo Pollo ti ho già risposto Un'ora fa Ti ho detto che non si sa un cazzo Come faccio a saperlo? Abbiamo visto un teaser trailer Oh mio dio Sono in cauto hype Però figa Se fate le domande Ascoltatele Le risposte TR c'era la pubblicità Torna indietro A parte che Cioè la pubblicità dura al massimo 20 secondi Non ho parlato per più di un minuto 30 secondi al massimo E non ho parlato per più di un minuto Di Pokémon Quindi non è che dici Eh eh ci sta E allora si vede Torna indietro e recupera Scusate sono nervoso Mi ha fatto il nervosire questo gioco Pensavo di fare una serata scialla In cui andavamo proprio In turbo chill Verso la vittoria del campionato Vaffanculo Peccato E invece mi è salito Lo sminchio Lo scazzo Lo sbincio Verso la vittoria del campionato Buono per Pululu Peccato Christensen Ci siamo Vidovic Bene Fino in fondo Vidovic Rientra Pululu Palla sul destro E poi sul fondo Peccato Va bene Sian carichi però eh Per questo game Sian carichi La squadra c'è Poi è ovvio che loro faranno Lancio lungo Sponda Difesa completamente aperta Tiro stupido Iker Alvarez Respinge esattamente sul piede loro 1-0 eh Già lo so Però Mano Certo 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 Bella la sventagliata La ricerca di Dukanovic Ancora il 17 Che si incespica un po' Con Vidovic Palla che torna Del Misuni Zou Listes Buona la giocata Dell'ungherese Baba Lassan Sbaglia Bravo Ciappet No Ciappet Buono Pululu Per Listes In area Listes Ancora Lungherese Non riesce a calciare Chiuso dalla difesa È peccato Titris Cazzo C'hanno Il potere di attirare la palla a sé Con la calamita Mettono il piede La palla Gli rimbalza Attorno a loro Che fico Come si fa? Qual è il tasto? Ups Ho sbagliato A mettere terzini Offensivi Mano Ma tu non l'ha presa Lui di mano Dico Ciappet Per favore Sì non Ciappet Pardon Iker Bravo Iker Alvarez No Lì stessa Diucanovic Imbeccato Da Listes Ancora Al Montenegrino Prova ad entrare sul destro Zukovski Interviene Gran chiusura E fine primo tempo Sullo 0-0 Yep Yep A calcio Intendi a squadra A 11 No A 5 con gli amici L'ho già fatto più volte Negli ultimi due anni Ora è quasi Bè Tanti per 7-8 mesi Che non vado Sono stati 7-8 mesi tosti Tra parecchio lavoro Ricerca Casa nuova E preparazione Del trasloco Più di tutto Quello che riguarda L'acquisto Della casa Che è lunghissimo Come procedimento Quindi Di grosse occasioni Non ne ho avute Purtroppo Ciao Mirko Sì sì no Mi hanno chiesto se Se fosse andato a giocare A calcio di recente Mi risposto è stata Boh Prima che inizasse il disastro L'ultima volta E la miseria Quest'estate è stato Non è Allora Sembra una bestemmia Ma è semplicemente Il nome del mio esterno D'attacco Purtroppo Lui c'era Lui è ben preso Uh 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 Il Misuni Lascia sul posto Wad Poi Listes È partito Sto Ginovich Mi ha rotto i coglioni Cazzo non l'avessi toccata Quella palla Si è andata esattamente Tra i miei piedi No Il rimpallo Eccolo lì 1-0 Slask Vroklav Ovviamente Ovvio Ovvio Mi pare corretto Gorski No No Dove cazzo vai Zu Dove cazzo è andato È un coglione Climala Almeno Zu L'ha ripresa Incredibile Sto sbagliando tutto Mo mi è salito il nervoso Non sto più giocando bene Io eh Più Loro Stojinovic E Cannavaro Ai mondiali del 2006 No vabbè Solo io riesco a ravvivare i morti Vero Allora Finita sta partita Facciamo una cosuccia È proprio al volo Al volo Al volo Al volo Una cosuccia Affinico però Porca minchia Ma ti ci metti anche tu Ecco Una cosa Che io non capirò mai Adesso Premesso È vero Il Catanzaro Contro il Surtiro L'ha fatto un partitone Questo non lo metto in dubbio Ma il Surtiro Non gioca propositivo È sempre stato così Anche quando era in C In C No era un po' più propositivo Di adesso Però non è mai stata La squadra che ti Controlla il gioco Tutta la partita Gioca così Gioca difensivo E colpisce in contropiede È uno stile di gioco Si è fatto bene Non è sbagliato Questo però poi Dà l'impressione Che l'altra squadra L'abbia meritato di più Perché ha controllato di più La palla E magari ha fatto più tiri Però magari se ti tiri del cazzo Col ginocchio Gorski Ci ho detto Comunque il Catanzaro È una squadra più forte Quindi è giusto Che abbia ottenuto I risultati che ha ottenuto Vaffanculo Però è così Sì sì ma è esattamente Quello che stavo per fare Stavo per chiudere il gioco E riavviarlo Salviamo ovviamente Perché i progressi Tra virgolette Che abbiamo fatto finora È giusto Che vengano salvati Ma voglio chiudere il gioco E ripartire Perché mi sembrano Stronzi miei Arbitro È finita eh Oh A me l'avresti fischiato Vent'anni fa Dai diamogli il terzo Eh certo Perché no Ah siamo al 95esimo In tutto questo Eh arbitro Ah pure l'angolo Certo pure il calcio d'angolo Tieni fai pure Ovviamente è finita Inconcepibile Inconcepibile Oh l'altra sera Vi giuro Adesso guarda Non ricordo quante partite Avessi fatto Prima di staccare Nella scorsa live Forse avevo giocato Contro Il Varta Poznan Il Legia Varsavia E Il Puscia No ho giocato Contro le due di Lodze Entrambe 2 a 0 Contro il Gornik Zabruze 2 a 1 Contro il Ciorizzo 3 a 1 Pareggiato contro il Corona E poi lo schifo totale Tranne quella che ho simulato Inconcepibile 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 Facciamo salva Chiudiamo il gioco E riavviamo tutto Ok E famolo Ah che rottura di cazzo Che rottura di coglioni Che sbattimento Quando succedono Queste cose Ah vabbè Dovevo aspettare Che mi si avvii tutto Eh ora Allora E però Fammelo partire Partirà davvero Oppure no? Sto aspettando Che mi si avvii Eh Con estrema calma No no Sto riavviando Sto riavviando Tranquilli Minchia Oh Oh Io dico Quante Quanto l'ho detto 45 secondi fa Che avrei riavviato Cazzo Capisco che ormai Il Short form content Vi abbia bruciato il cervello E Perché guardi un tiktok Che dura un minuto O uno short di youtube O un reel di instagram E dopo ne guardi un altro E già al terzo che guardi Hai dimenticato il contenuto del primo Però figa Ok Niente Oh Sia noi che il rakuv Siamo crollati di brutto Siamo attualmente a meno Tanto A meno nove Dall'Eck Poznan Primo A praticamente Il giro di boa Perché questa è l'ultima partita Dell'andata Speriamo Che il rakuv Ci dia La botta di Di umore Di morale Che ci serve Perché si è messi proprio male Qual'altra maglia da calcio vorrei comprare Guardate in questo momento Dentro nella mia testa Ho quella del Messico Del 90 O del 94 Non ricordo quale O del 98 Però È la prossima che voglio Che voglio comprare Quella E niente Cominciamo Questa nuova partita Dopo aver riaviato il gioco Una speranza che sia cambiato qualcosa E che Che i miei si diano Un attimino Una pacca Sulla spalla A vicenda Per dire Oh coglione Svegliati Che qua abbiamo uno squadrone Che dovrebbe dominare Ogni singola partita Nell'extraclasa polacca E invece Guardaci qua Al sesto posto In difficoltà E siamo subito avanti Con Listes Imbeccato Da Djukanovic Nel posto giusto Al momento giusto Lungherese Siamo avanti dopo Sette minuti Sette minuti Sette minuti È tipo Il secondo gol Che faccio In tutta la serata No Il secondo no Però tipo Il Settimo Non avevo ancora segnalati Così facili Kammerknecht Cercare Sacek Palla che non arriva Rhein Krenak Quella del portiere Non la ricordo Ricordo Quella del giocatore Di movimento Krenak Resiste Bravo Iker Palla dentro Palla dentro Cacciamola fuori Ci hanno pensato loro Per fortuna Dai Buono Buono La sortita La sortita offensiva Del nostro Numero 17 Peccato Che il pallone Si sia spento Alto Sopra la traversa La porta difesa Dal portiere Del Rakov Ora ci proviamo di nuovo Con i tiri dalla distanza Alassan Trelovski La blocca addirittura Tiro per quanto potente Forse un po' centrale Telefonato La prima di partire adesso Non è fallo mai Non l'ho neanche toccata Quindi non è continuata Quella palla Cioè lo è Non è Non è Va fa culo Vai cagare Drakhal Ho non permesso Mishor Forse più Merda Sai che non me la ricordo La maglia fluorescente Dopo vado a guardare Bravo Zu Chiude bene Il CDC di Singapore Che poi guadagna Anche la rimessa Spingiamo un po' avanti Questa squadra Che ne ha bisogno Di Jukanovic Per l'Istes Cerca il passaggio di ritorno Capisce tutto La difesa del Rakov Che poi regala Un'altra rimessa però L'Istes La perde subito La recupera La riperde Trelovski Riparto un loro Arsenic Bravo Zu di testa Pululu con l'appoggio Dalla San Parla che in qualche modo Gli arriva L'Istes Per Jukanovic Trelovski Si abbassa bene E David al 2-0 Buono Ok 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 Messi male ma non malissimo Male ma non malissimo O meglio Stai vincendo Quindi per dire bene Ma non benissimo Sì Sì Sacek Ho voluto strafare Un attivino io Però ecco Sacek Sacek continua A non A non farmi impazzire Sull'out di destra Peccato fuori di poco Sacek continua A piacermi poco Potrebbe essere Il primo a volare Il prossimo anno Potrebbe Dico Eventuali richieste Di cessione Permettendo Sacek E Zou Potrebbero essere I primi due A salutarci Bravo Iker Anche l'Istes Ma più per una questione Economica L'Istes Nel senso che Avendo 20-21 anni In questo momento Dicendo un 77 Che a fine stagione Potrebbe arrivare A essere anche un 80 Se continua A giocarmi così bene Visto che Sta facendo goal E assist A tutto spiano Tipo questo Poi il 2-0 Del Giagiellonia Sul Rakov E no Però Cavolata parte Davvero Se continua A giocarmi così bene L'Istes Un 50 milioni Me li porto via E con 50 milioni Mi faccio degli accordi Acquisti seri Non ottimi magari Ma comunque seri Posso alzare L'overo al medio Della squadra A 75-77 Comodamente Solo cedendo l'Istes Ma lì è tutta strategia Vedremo poi Al momento Cosa fare Per ora Vediamo di Rimettere in sesto Questa Questa annata Che è partita bene È scesa E ora deve risalire Tipo montagna russa Zu non sarebbe male Ma siccome sono costretto Tra virgolette A vendere Dei 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 giocatori Siccome sono costretto Intanto abbiamo regalato Un'autostrada Ieboa Tu per tu Con Iker Alvarez Bravo Iker Mostruoso Mostruoso Se devo decidere Quale titolare Dar via Zu è il primo indiziato È un po' lento Un po' macchinoso Forse posso arretrarlo A difensore centrale Rende bene Chi lo sa E intanto c'è calcio Di rigore Per un tocco di braccio Di Idris Il Misuni Dal discreto Si presenta Krnac Pallonettino Nel culino Ah L'Aranjero Vuole giocare Perché sta piangendo Maledetto Frignone Dentro Scripchak Dentro Ibertsberger Dentro Junus Saperzu Con il Misuni Che viene spostato Cdc Basta Eh Udo Mi spiace Però purtroppo Per te Non c'è molto Spazio Che Lewandowski Un po' pesa Il suo region Nessuno mi impedisce Di andarlo a cercare In caso Il suo region Il punto è che Diciamo Il fato Deve dire Polonia Perché se il fato Non dice Polonia Io il region Di alcuni giocatori Me lo posso anche Sognare Kittel Bravo Babalassan Listes Babalassan A cercare Pululu Alassan Non ha Dei piedi Cioè Ce li ha Ma Sono dei mattoni Tutti squadrati E storti Mano di Yunus Lasciamogliela Non troppo Non troppo Non troppo Lasciagliela Ma non troppo Bravo Yunus Ancora Ibertsberger Ibertsberger Esce Trelovski Esce Trelovski Peccato Però infatti Prendere Lewandowski Vorrebbe dire Giocare senza Pululu O spostare Pululu Witch È un'opzione Dai Finita Non è finita Kittel Bravo Ibertsberger Falla finire Arbitro No Concede L'ultimo angolo Tutti su Anche il loro Portier Stiamola fuori Ibertsberger Sulla linea La salva La salva E finisce così Aiuto mamma Ciao Angelus Buonasera Oh Tre punti Enormi Tre punti Che non valgono Tre punti Ma ne valgono Sei Che culissimo Che culissimo Per davvero Sacek Cosa vuol dire Lo scarso impiego È sempre in campo Ma sei Coglione Nel culo Vabbè Gente scazzata A caso Ok Comunque Al giro di boa Alla metà Di questo Campionato Il giaglione A Bialistock Si trova Al terzo posto Devono ancora Giocare alcune Quindi simula Quindi simula un attimo Fammi guardare il calendario Cosa dice Ah no Ci abbiamo Radom Una settimana dopo Ok Comunque Arrivati alla metà Al giro di boa Per la punta Appunta Appunto Siamo quarti Con 32 punti A meno 10 Dall'Eck Poznan Primo Con una partita in più Quindi potenzialmente A meno 7 Dalla vetta E a meno 3 Dal secondo posto Rimaniamo in scia È quello che mi interessa Rimanere in questa zona E ora scontro diretto Con Radomi a Kradom Questa va giocata Questa va giocata Assolutamente C'è una conferenza? C'è una conferenza Fatemela fare Almeno gli busto Il morale miei E ti è arrivata oggi Che strano Angelus Questa cosa è problematica Devo capire Perché magari Il fatto che io Pubblichi video Magari così a ridosso Della live Crea problemi Che ne so Devo capirlo No 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 Guarda che non Guarda come sono felice Adesso tutti quanti Vai Può benissimo essere Che sia un problema Esterno Però dico strano Proprio oggi Perché io teoricamente Questa live L'ho fa cappata Cioè l'ho creata Prima per solo abbonati E poi l'ho resa pubblica Quindi teoricamente YouTube La sta percependo Diversamente Non è Non lo so Come funzioni Ma ho notato Che di base Se accidentalmente Imposto una live Come Solo Un attimo è che devo difendere Un attimino qui Bravo c'ha pet Se la metto come solo abbonati Perché sbaglio E sono un coglione E poi la sposto E la rimetto pubblica Viene condivisa Meno rispetto ad altre Che magari metto direttamente Come pubbliche Elvizioni Dentro Alassane Alves Luknether La mette fuori Cia pet Manda fuori Giri Vidoli Che però la riprende Listes Yukanovic A cercare A cercare Listes Inale a Listes La chiusura della difesa Del Radom A cradom Wagner Alves Torni indietro da Wagner Mamma mia Wagner Love Come direbbero i giovani Wagner Love Minchia E' un giocatore Che aveva Un'aura enorme Già il fatto Che ti chiami Wagner Love Nome meraviglioso Poi aveva tipo Le treccine azzurre Giocava In Russia In quegli anni Le squadre russe Erano fortissime Cazzo Cioè Wagner Love Giocatorone clamoroso Kamerknecht Lungo a cercare La testa di Pululu Che torna poi indietro Da il Misuni Nel Cesca Giusto Non era ne Non era nello Spartak Non era nel CSKA E' vero Non penso giochi ancora Wagner Love Dai Se gioca Gioca tipo in serie C In Brasile O dove si è fermato A vivere Wagner Love No Era Luis Adriano Quello che andò al Milan Ma lui giocava Nello Shakhtar Baba Alassan Sopra il difensore Maikrovic Nel posto giusto Al momento giusto La prende Alassan A cercare ancora Fimico Pululu Pululu Dentro per Djukanovic Di ritorno da Pululu Con il mancino Dal limite Ancora Maikrovic Vidovic A cercare Alassan In due tempi Prima di metterla Chizio mette fuori Ciappet Il Misuni Dal limite Col mancino Maikrovic E grazie Luca Per l'abbonamento Benvenuto tra i pepegotti Thank you uomo Giga cuoricioni In chat per te Buono listes Pululu Maikrovic Oh quante parate ha fatto 8 E siamo al 34esimo Il Misuni Pululu Il controllo Calcio Basta 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 Mi hai rotto il cazzo Parate fatte Dove sono? Ah da portiere 8 Adè Siamo a 8 parate Su 8 t di fatti Importa 8 parate Sul fondo Il colpo di testa Gioca all'Atletico Davvero gioca all'Atletico Goianense Barò Bellissimo Kiziu Bravo Djukanovic Kiziu la riprende subito Ci abbiamo ancora noi Vidovic Niente Come ne ho detto Ho perso l'attimo Non abbiamo colto L'attimo Fuggente Quindi siamo ancora Incastati qua Alassan Pululu Luisao C'è Zuccol Un ottimo intervento Difensivo Bravo il centrocampista Di Singapore Djukanovic Dal limite Ross Sacek Pic Che però la tocca col braccio Era calcio di punizione Chi venne battuto Davidovic Col mancino a rientrare Palla in mezzo Ci arriva Ciappet Sul fondo Ciappet Peccato Fine primo tempo Adesso voglio vedere i dati Perché avrò fatto 18 tiri io Zero Radomiak Uno A undici Dai Ci siamo Al massimo Basta che guardi In portoghese Se hai dubbi Sulla Attendibilità Della pagina Di Wagner Love In italiano Basta che vai a guardare In Cambi la lingua E metti il portoghese Che essendo Brasiliano Lui suppongo Quella pagina Portoghese È stata aggiornata O quello Vai a guardare Sul sito Dell'Atletico Goianens Se effettivamente È registrato Tra I giocatori In rosa Sacek perde palla Regala palla a Donis Wagner Bravo Ciappet La perde anche lui Alves Vido Vic Usciamo noi No Alves Zezic Per Wagner Iker Alvarez Miracoloso Parata Assurda Del nostro Numero Uno Andorrano Cosa abbiamo Combinato Non lo so Però si sono Svegliati loro Questa la vin con loro Con un tiro Stupidissimo Unica cosa Che non mi piace Di sta formazione Di sto modulo È che Quando sono i calci D'angolo Non c'è nessuno A raccogliere la palla Al limite Letteralmente Nessuno Zu Vidovic Ducanovic La dà il giocatore Sbagliato A rimorchio Ciappet Si No No Ducanovic Ducanovic Nel nostro Fino a quando rimaniamo in live oggi Ancora un po' si Giordao Cross in mezzo Iker Alvarez C'è Donis Zucco il braccio L'arbitro non fischia per fortuna Listes, Djukanovic Buono per Afimico Che palla Afimico, Pululu, Maikrovic Ancora Vidovic Ancora verso Pululu, Ross El Misuni E Tris ma che cazzo fai ogni tanto El Misuni è un pendolo che oscilla tra L'essere un fuori classe E essere un cazzone con Due piedi sinistri Due braccia sinistra Al posto dei piedi Forse dovrei dire Era palese che sarebbe successo Wagner all'ottantaquattresimo Cazzos O allora Niente Sconfitta 1-0 con Rado Miacrado Ma era prevedibile che sarebbe successo Wagner Love No, non ha più Giustamente Ah, ma è quella A Tra l'altro Wagner Si, gioca al... No, è pelato Wagner Love Cursatissimo E comunque si gioca All'Atletico Goianense In Serie A brasiliana E insomma Sconfitta che non ci voleva Perché va ad allontanarci Sempre di più dal titolo Ora siamo a meno 10 Ufficiale Confermato Dall'Eck Poznan Tosta È tosta Ma che cazzo dico che ho dominato Anche qui le domande Mi danno fastidio Che devo rispondere sempre In maniera positiva Bah Stal Mielez La prima di oggi Simula Simula lento Vediamo cosa accade Ma sì che c'è il campionato polacco È l'extraclasa Premesso che le interviste Non servono ad assolutamente Oddio Non servono a niente Insomma Perché se sono ciò Che ti tiene il morale Della squadra alto Secondo me Andrò un attimino rivisitato Perché ci sono le situazioni In cui magari La strigliata L'incazzatura Può essere utile Non puoi continuare A coccolarli E dire no Sono bravissimi Sono bellissimi Tutto il tempo A volte Il rimprovero La cazziata È utile Magari Toglimi il sistema Di interviste Pre e post partita Aggiungimi un sistema Di discorsi Alla squadra Pre e post partita Che potrebbe avere Più senso Se vogliamo No? Piuttosto che Motivare la squadra Davanti ai microfoni Motiviamoli dentro Lo spogliatoio E lì Un po' come Su football manager Ci sono le situazioni In cui l'incazzarsi Serve a spronarli I giocatori Perché se stai Giocando male E cilli No fra Io ho bisogno Che tu sia incazzato Se stiamo giocando male Ma Non incazzato Uffa sono triste Non voglio giocare più Non come un bambino Di 4 anni È un ragionamento Da adulto Dice oh cazzo Aspetta Forse effettivamente Bisogna fare qualcosa Se potessi scegliere Un campionato Da giungere FC Quale andrai a prendere? Penso quello greco Penso quello greco Carrierozza Da Dalla Grecia Con una di quelle Squadracce orribili Che stanno tipo In zona di processione Nel campionato greco Merda Bellino Bravo Femico Allora La questione Degli incitamenti Durante il game Sti cazzi Perché non è una simulazione Sto giocando Nel 99% Dei casi Uno che gioca A FIFA Le partite Le gioca Non le simula No Altrimenti Se volesse Simulare le partite Giocherebbe a Football Manager E basta Però Prima e dopo la partita Invece che avreste Interviste Il cazzo Con le solite 4-5 domande Inventati Dei discorsi Io penso Che Oh In maniera Scema Da ignorante Che Non ditemi Che non esiste Un'intelligenza Artificiale In grado Di Gestire Un discorso Da parte Di un allenatore Improvvisandolo Anche Perché Non ci credo Allora Il campionato giapponese Anche sarebbe Molto bello Riaverlo Su FC24 Il punto qual è O mi metti Una Champions League Asiatica Fatta come si deve Oppure Non ha senso Il punto è che Se non sbaglio La AFC Champions League Quindi la Champions Della Federazione Calcistica Asiatica È un'esclusiva Di football Bravo Baba Alassan 2-0 Ed è chiusa E finisce così 2-0 Vittoria pulita È benissimo Oddio Alexander Arnold All All'Atletico Madrid Cursato Ora Siamo a gennaio? No Sì Siamo a gennaio Qualcuno Della Rosa Ha chiesto La cessione Magari Al diario del fatto Che stanno tutti Scazzati Per ora No Naranjo Ha chiesto Il prestito E va bene Lo dobbiamo Richiamo Breno Naranjero Sarà il prossimo Calmo Oi 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 Calmo Ok mi ha certo a sporadico Realisticamente sarebbe bello poterli avere tutti i campionati Non li avremo mai però purtroppo Va bene Eh Post Rinnovato il contratto Dovrebbe ora essere un attivino meno Rompicoglioni Per il tempo di gioco Visto che è segnato come sporadico Va bene Ora siccome la prossima partita è molto in là Cioè il 24 Direi di avere i giocatori preparati al meglio E buttare tutto sulle prestazioni Perfetto Visto che sono tutti belli carichi E andiamo avanti Fino al 24 di gennaio Sappiate che cederò soltanto Naranjo Qualora Dovesse arrivarmi un'offerta per il prestito No Un guiambà A parte che Coglionazzo Non è neanche riaperto più Fermi eh Non è riaperto più i cheat Ecco perché la società non è più al massimo Buona serata a chi sta andando Invece buona serata a chiunque stia anche arrivando Hello Ok Benissimo No volevo guardare Ab mercato Ok Sul mercato c'è giusto Naranjo Che ha chiesto il prestito Se non arriva Non lo mando Se arriva Ce lo mando E poi lo richiamo dopo tipo una settimana Così lui è contento Perché Nella sua testa Dice Mmm Effettivamente Effettivamente Mi ha mandato in prestito Mi ha richiamato Mi ha mandato in prestito Quindi sono contento Stupido Coglionazzo Comunque siamo al giorno della partita E ripetiamo il campionato Da questo quinto posto A meno 10 dall'Ekpozna In primo Si può fare Ok Specifico per energia Tutti sulla formazione titolare In questo modo Ok Bene Dai Riprendiamoci contro lo Slask Vroklav Che prima me ne ha rifilati Tipo 2 o 3 In maniera turbo Ingiusta Sapete che questa la voglio giocare E quindi scende in campo Poi abbiamo anche la coppa di Polonia In realtà La Pucar Polacca Comunque ti dico Filippo In realtà non è un delirio Allora Può essere che lo sia Ma ce l'ha fatta Un team di modder Che ha realizzato La trischele Penso possa farlo anche EA Più che altro Ecco Dal punto di vista di EA Penso che il discorso Per quanto Sbagliato Possa essere Semplicemente Un Sì ma io non ci guadagno Abbastanza Da spendere E investire tutti questi soldi Per avere poi Su FC24 L'Arzignano Valchiampo Il Monte Rosi No Sono tanti soldi che Non mi rientrano Perché sono andato ad aggiungere queste squadre Che è un ragionamento del cazzo da fare Vero Però In quanto azienda Ragionerà così Ragionerà dicendo Hmm Ma se io aggiungo Il Monte Rosi Tuscia Quanti acquisti Faccio in più Bah Magari 20 Guarda Facciamo Siamo generosi Diciamo 100 Tanto buono Però di Listes Per Pululu A tu per tu Con il loro portier Pululu Porca puttana C'è arrivato Gorski Fuori Ehm Dovevo calciare forte E basta Facciamo che Esagerando Ne vendano 100 Ai tifosi del Monte Rosi Tuscia Che prima il gioco Non l'avevano acquistato Ma ancora l'acquistano Perché c'è la loro squadra In game Ok Il gioco viene venduto A 100 euro Sono 1000 euro In più Mi hanno rotto Qualche giocatore Non so chi sia Bene Ci siamo ancora Fidovic Si gira Torna indietro Djukanovic La palla alta Sono 1000 euro Bene Per 60 squadre Di serie C Fai che mediamente Ne vendi un po' di più Ok Sarebbero 10.000 Sarebbero 1000 a squadra Sono 60 squadre E sono 60.000 euro Cool Metti che ne vendi qualcosa in più Bene Soltanto di acquisti nuovi Con questo investimento Ne hai Ma anche se avessero Se guadagnassero un milione Cosa che io dubito Fortemente possa accadere Bravo Iker Dall'aggiunta di queste squadre Se anche ci guadagnassero un milione Comunque avrebbero speso Molti più soldi Per svilupparla La serie C Mentre Klimala Continua a farmi gol Porca puttana E quindi Siccome gli costa di più Di quello che ci potrebbero guadagnare Dallo sviluppare Aggiungere una serie C Non lo fanno Che è un peccato Però non lo fanno Paradossalmente Ha più senso Per Sports Interactive Star dietro A Football Manager E farlo E farlo per Football Manager Perché Il tipo di giocatore Che spesso Gioca Football Manager Preferisce Partire da La serie C La serie D Quindi ci sta Che investano Tempo e denaro Per aggiungerti una serie C No volevo aprirla Idris Erroraccio Sì Vidovic Continua Continua con Pululu Ma perché abbandonarlo Ma cazzo Ma dagli palla E continua a correre Ma perché tornare Nel tuo ruolo Perché tornare Nella tua zona Di competenza Di campo Ma minchia Ma se recuperi palla E ti schieri punta Ma rimani punta Questa è un'altra cosa Che non sopporto Perché è illogica Cioè se Bastoni Recupera palla Mentre pressa alto Ed è accanto A Lautaro Per far partire Contropiede Non è che tipo Lancia Lautaro E si ferma E torna indietro No Corre accanto A Lautaro Non è che tipo La terza serie tedesca È molto più seguita Della terza serie italiana Senza contare Che c'è Hai un terzo Delle squadre Che ti servirebbero Per la terza serie italiana Proprio perché Ne hai 60 In Italia Mentre ne hai No Lì stessa È i 20 In Germania Petkov No Dai Porca puttana Sto Slask Vroclav Di merda Bravo Chup chat Dai Affimico Ma che cazzo Fai Ma per piacere Ma che cazzo Ma io dico Ma siete Degli ottimi Giocatori Ma due passaggi Fatti bene Al compagno Attaccato ai piedi Ce la potete fare Non è che Vi stia chiedendo Di farmi Un passaggio Di 70 metri Esattamente più Impointato sul piedi Di un giocatore Che fa il taglio perfetto Al momento perfetto Sto chiedendo un passaggio Al giocatore Che è accanto Ecco Più campiliare La Libertadores In sé per sé Dovrò raggiungere Qualche campionato In più Oltre a quello argentino Già se mi metti Tipo il campionato Boliviano Io godrei A cercare di Divertirei A cercare Di vincere La Libertadores Con una squadra boliviana Alla soluzione Il Misuni Sembra un incapace Pronto il cazzo Oh mio dio Che palle Allora Merda Adesso c'è Pure Tour de force Importante Con il Lake Poznan La Coppa Il Rakov Ho capito che Non posso puntare Al campionato ormai Però posso comunque Cercare di ottenere Uno slot in Europa Perché Siamo a meno 5 Dalla seconda Il Lake Poznan Fa un campionato a parte Ma siamo a meno 5 Dalla seconda Speriamo bene Speriamo bene Speriamo bene Altrimenti ragazzi Spera nella Coppa Anche quest'anno Perché dovrei cambiare A Fimico Tipo il bomber Della squadra Mi ha fatto 15 gol In sto campionato E Tipo il secondo Miglior assistant Credo sia l'ultimo Dei problemi Polulu Credo che I primi siano Zu e Sacek A pelle Pallo Caccialo No magari Però giallo Il fatto che devo giocare Tutta la partita Col terzino ammonito Non mi dispiace Vidovic Cross in mezzo Chiude la difesa Del Lake Poznan Murawski Ovviamente Col problema che vince Tra i piedi di Otic Bravo Zu Alassane Listes Per Alassane A cercare Polulu Col destro Che svirgolata Pazzesca Partito anche In fuorigioco Forse l'angolano Di quanto? Non fai a cagare Premesso che Non mi ha annullato Gol né niente Ma vai a cagare Lo stesso Per la punta del piede Ducanovic Buono per Vidovic Cross in mezzo Di prima Anderson spazza Peccato Non ci fosse nessuno Rigore Ha fatto la cazzata Il loro difensore centrale Milic Che nel controllare Il pallone di petto Se la fa sbattere Anche sul braccio L'arbitro severo Fischia il rigore Era la Polulu Contro Mrojek Imprendibile 1-0 Giaghelloni Al minuto numero 15 Segna il nostro Bomber Il nostro numero 10 Il nostro capitano Fimico Pululu Ennesima rete Di questa stagione Per Per il nostro Trascinatore Il nostro leader Vediamo se riusciamo Addirittura a portargli Una doppietta La Sun Sbaglia tutto Anderson Ziubat Golisade L'iraniano Gran sterzata Golisade ancora Col mancino da fuori Palla sul fondo Comunque se ora Mi hai messo la La pulce In orecchio Voglio assolutamente Il campionato Equatoregno Voglio Voglio vincere La Libertadores Con l'independiente Del Valle Col Con gli sport boys Dal Peru Merda Ignoranti anche gli sport boys Dal Peru Sarebbe bellino Anderson Spinto male Palla dentro C'è Iker Ancora Minchia A me spiace Per i poveri Modellatori Di Wikipedia Che devono Ogni volta Star lì A correggere Sta roba Smettetela Di rompere Il cazzo Con il povero Afimico Basta Lasciateli in pace Non è divertente È solo fastidioso Palla fuori Ma il punto è che forse fare Tipo Parlo per me È una carriera in Argentina Da Persona che Abita Vive E conosce Il calcio In Europa E che lo propone A gente Che conosce calcio In Europa Forse una carriera In cui Tu punti La libertà D'Ores Potrebbe non essere Così divertente Ma attualmente L'unico problema È che davvero C'è soltanto Il campionato argentino E già quelle argentine Sono tra le top In una stagione Mezza Hai già La squadra In cima Al campionato argentino Quindi non è neanche Divertente Attualmente Orca puttana Bravo Velde Bravo Iker La fidanzatina All'elementare Alle medie No Sì Oddio sì All'elementare Sì Ma regà Cioè Cringe Cringe È una cosa da bimbi È normale Che giochi a farla adulte Quindi dice Ah sì Questa è la mia fidanzata Ma è un'amica Ovviamente E alle medie Invece no Ma avevo una grande cotta Per Per una compagna Di classe La prima ragazza La prima amorosa Seria L'ho avuta Alle superiori In prima superiore Il mancino Il mancino Otic Di base Di base Però non voglio Impazzire Cercare In maniera Forsennata Un gol Che magari Manco mi serve E che anzi Mi scopre E basta Tipo anche qui Ecco Se fosse arrivato Mamma mia E il Misuni Secondo me È da provare Cdc Perché col fatto Che giocando Cc Che non è un suo Ruolo effettivo Mi stia Performando così male Forse è dovuto Al fatto proprio Che non è il suo ruolo E quindi non si sente A suo agio Perciò gioca male Perché che cosa Stupida In realtà Non è così Stupida Per ruoli tipo Attaccante Difensore Ccc Cdc Insomma Non vedo Questa Differenza Grazie Zanna Per l'abbonamento Benvenuto Barra Bentornato Tra i pepegotti Un bacione Thank you Giga Qualicione In shot Per te Vidovic Affimico Cerca Listes Murawski Cioè Cambi Cambi Dentro L'aranjero Dentro Toirov Oggi Listes Un po' Spento E dentro Udo Così almeno Gioco anche lui Ogni tanto Lunedì Sono in live Teoricamente Sì Sono in live Lunedì Sì 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 Ziuba Ishak Vado a cercare Anderson Insomma Non mi state dando Molta sicurezza In questo momento Cosa ha fischiato Punizione per loro Ah no Ok Per me Bene Alassan Buona L'apertura Per Claudione Kammerknecht Cross in mezzo Djukanovic Brozek Mette fuori Non c'è Il mondiale Per club Peccato Perché cazzo Quella Sarebbe stata Una bella idea Tanto la libertadores Ce l'hai No La champions league Asiatica Anche c'è Se non sbaglio Ci metteresti Un attimo A Ad aggiungere Una squadra Dall'MLS Cosa ha fischiato Oh È il momento Di far segnare Il primo gol Al nostro Esterno Taggico Curso Toirov Palla sopra La barriera Palla e mezza La barriera Ancora Toirov Rigore Quello sicuro Zannam Infatti anche Sto giocando A estrema Mancherebbero Le squadre africane Quello sì Alassane Miglior rigorista Non penso Proprio Curso Toirov Per il 2-0 Curso Ancora Non sono riuscito A fare un gol È il Simone Davi Della carriera Povero Toirov È il Simone Davi Del Giacchiellonia Così come con Davi Ho passato Tipo 6 stagioni A cercare di fargli Fare gol Ce l'ho fatta All'ultima Su rigore Anche qui Con Toirov Non segnerò mai Boraccio Markvinsky Muravski Muravski Che c'è Che c'è Mi chiedo Perché la cosa Si è così scontenta Nonostante tutto Siamo comunque In zona In zona Europa Quindi Inconcepibile 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 Sono arrivate Richieste per Naranjo No vero Benissimo Allora Schippa brutalmente Merda Danni Olmo al Napoli Per 80 milioni Durante l'inverno Non male Allora Situo in extra Clasa Sempre quinti Sempre a Meno 5 dal Secondo posto A meno 2 dal Terzo del Rakov A meno 10 Dal Dall'Ekpoznan Vabbè Sentite Proviamo a concentrare Un po' Le energie Su La coppa Nazionale Abbiamo Il push Davanti a noi Contro il push Direi di far giocare Un paio Un paio Tipo un Guiambà Me lo porto in campo Fuori Zu E il Misuni Al suo posto Iqbal Iqbal Me lo porto In panchina Anche Il giocatore Della Namibia Ce lo possiamo Portare dietro E dentro L'aranjero Per Sacek Dal primo minuto Dai Andiamo La coppa Di Polonia Sono tipo Tre partite E poi Quattro partite Hai gli ottavi Anzi no Forse è soltanto Direttamente i quarti No Hai ottavi Quarti Semifinale Finale Quattro partite La prima Contro una Delle peggiori Di tutta quanta La nazione Il push In realtà Il push Pardon Vediamo se poi possiamo effettivamente puntare Sulla coppa di Polonia Come mezzo per raggiungere l'Europa Sarebbe carino Vincere almeno un trofeo In tre stagioni Con questa squadra Vero Bravo Pululu Non siamo riusciti a calciare Però buon movimento A rientrare adesso Del nostro numero 10 Haida O Hajda Haida Lui 70 Alassan Babalassan Alla fuori Quante partite ancora Beh non lo so Rega Stai che ventuno alle 11 Non dice qualcosa Oggi ho iniziato anche un po' tardi Forse un po' di più Mi fermo Minchia che botta Ninguiamba Skripchak Alassan Kammerknecht Preno l'Aranjero Palla dietro Per Pululu Con la mano Jakuba E questo era palese Questo ci poteva stare Il giallo Perché se ci pensate Se ci pensate È andato a parare con la mano Un tiro indirizzato Verso la porta vuota Poi magari L'ha fatto apposta Magari no Chi lo sa Fatto sta che Affimico Pululu Va a calciare col mancino Contro Komar E nuovamente su rigore Trova un altro gol Dopo quello Siglato Contro Lek Poznan Ora non ci resta che sperare bene Brennan Aranjero Liste Serafine Misuni Sbaglia tutto Ma tu scherzi Guardate che Tra giocatori e staff Di una squadra del genere Forse arrivi Sì Allo stesso numero di abitanti Perché hai 23 giocatori Più un allenatore Un vice allenatore E poi tutti i preparatori vari Che abbiamo assunto Che sono circa una decina E già così sei a 35 Più realisticamente Ci sono anche tanti Ci sarebbero tante altre persone Impiegate per questa squadra qua E hai il social media manager Bravo Iker E hai Quello che ti gestisce la contabilità Il presidente Il vice presidente L'amministratore delegato Cioè gli osservatori Quindi Sì Credo che Se fosse una squadra reale Lo è Però Traslata nella realtà Non su FC24 Ne avrebbe molti di più Di Villa Biscossi Che ne ha 64 Di abitanti In gioco quasi Perché hai i 23 della squadra I 10 preparatori circa Mentre Regaliamo un gol Al Puscia E 6 a 33 L'allenatore 6 a 34 Gli osservatori Ne abbiamo 3 Ah no Pardon Gli osservatori Quelli che vanno in giro A cercare i giocatori Ne abbiamo tipo Sì 3 Più 3 per i giovani Quindi sono 6 6 a 40 Bene o male Più 3 per i giovani Più 3 per i giovani Più 3 per i giovani Basso in mezzo Terribile No Mirko Figurati Mai ma proprio Mai 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 Non so neanche se ci siano squadre Semidecenti Non sono manco andato a vedere il baseball E a Bologna La squadra forte c'è Figuriamoci Sono andato a vedere la palla a mano Skripchak Djukanovic Per Vidovic Pululu Vistes Ancora Djukanovic E quei 3 Bravi a conversare Ma la palla non va da nessuna parte Alla fine E neanche basket ho mai visto Ragazzi sono un pantofolaro Ma poi Spesso giocano o in settimana Quando io sono in live Oppure nei weekend Ma di andare da solo non mi andava Perché Claudia lavorava Il 99% delle volte Ma non gli sarebbe neanche fregato nulla Quindi non sono mai andato Ciao Ele Dai vai a cagare Zopolnik Stacco perfetto in mezzo all'area di rigore La ribalta con una doppietta Mirko ma sei serio? Ma io ho giocato a palla a mano Per un paio d'anni Nella vita All'SSV Di Bolzano Tra l'altro Sguarda contro qui Il conversano Si è giocato a un paio di scudetti Negli anni dieci Bellissimo Sta andando Sì Diucanovic La tiene Listes Pululu E battuto ovviamente Pululu Ma che cazzo va? Perché dorme? Che plot twist inaspettato Non sapevo No Cazzo Bello il Misuni Mi è piaciuto Una volta il Misuni Ha fatto una cosa buona Cioè mi è piaciuta l'idea Del passaggio Teso Basso In mezzo all'area Peccato che Listes Fosse mezzo passo indietro Se Vai a cagare Vai a cagare Zapolnik Niente Siamo fuori Di nuovo Dalla coppa Di Polonia Di nuovo Per mano del Puscia E' lo stesso Così anche al primo anno Mi eravamo ucciti Ai digori Tipo Dai Per piacere Oddio Europa No abbiamo ancora il campionato Però minchia Perché mi sbaglio i passaggi così? Zapolnik Comunque un incontenibile Tattica enorme Cazzo Tattica mai pensata prima Riavvia partita Pog Dai Cazzo Ma che cazzo è sto Zapolnik? Ma perché ogni volta che ci gioco contro Deve farmi 16 gol Figa Perché è così forte? Perché non riesco a contenerlo? Ma cosa facciamo? Ma io non vi capisco Io ogni tanto questo Cioè i giocatori non li capisco Di tanto in tanto Non mi capacito del perché Alcune cose vengano E tante altre no Ma vi ricordate il finale Della scorsa live? Quanto stavamo andando bene Perché adesso facciamo le cose col culo? Perché ogni live è uguale ormai? Perché ogni live parte con alte speranze E si conclude con me incazzato? Ma perché sto facendo ancora le carriere Quest'anno se sono tutte così? Tutte 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 Uguali Ma che fastidio Ce ne fosse una in cui dico Oh finalmente è andato tutto bene Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ah mamma mia Niente Rip Coppa Ci si concentra solo sul campionato E si spera di arrivare tra le prime tre Ora abbiamo il Rakov E il Rak... Ma Nguiambà ha chiesto la cessione Chiedo per un amico Sì in Nguiambà si Sì in Nguiambà ha chiesto la cessione No le goccine della felicità Arriva sempre quel momento In cui Poi A una certa inizia ad andare tutto bene Inizia a vincere tutte le partite Ma poi perdi L'unica decisiva Tipo che ne so Pareggi una semifinale Di Champions Perdi il ritorno Al centoventesimo Con un gol della minchia Boh Mi sembra di star giocando All'infinito la stessa stagione Cambia giusto un po' il contorno È tipo un Un lunghissimo giorno Della marmotta Che però Ha delle piccole varianti Quelle piccole varianti Sono che a volte Cambia la squadra dei giocatori Fine Ma di base È un tutto Un unico giorno Della marmotta lungo Bello il pari Il pari di Alassane Per Sacek La tiene dentro Tornito da Kammerknecht Bello pari del cingalese Rakovitan Alassane Il Mizuni Vidovic No Qua potevo andare al tiro Con Vidovic O provarci Quanto meno Yeboah Lungo a cercare Mishor Bravo Bravo Ciappet Il Mizuni Vidovic Ma no Ma no L'arbitro nel fischio Quindi ci abbiamo ancora noi Djukanovic Pululu Per l'Istess 1-0 Giancarlos Rhein Dai che ci siamo Zu Abbiamo indotto Ora l'errore Peccato che poi Mamma mia Ma come fallo Di Kammerknecht Questo era pulito Sulla palla Arbitro Che cazzo Ti inventi Voglio un replay Datemi il replay Perché sono sicuro Che la palla Si è finita Cioè il mio pit Si è finito Sulla palla Ma si che era Sulla palla Arbitro cornuto Figlio di puttana Ok Yeboah La tiene dentro Ora Guarda tutto Il Mizuni La perde Idris Il Mizuni Signori Mamma mia Che culo Come va la stagione Va Eh Sarebbe potuto andare Oh Ma sta andando Eh Non Ma Eh Insomma Siamo poco fuori Dalla zona Europa Detto in parole Povere Mi è morto un giocatore in campo Lederman col mancino sul fondo Kamerknecht Per Alassan Merda L'idea Per arrivare da Djukanovic C'era e come Peccato No Lascio fare che Seed Ha iniziato anche A esprimersi con Con versi Oltre al pianto Ora fa anche qualche Eh 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 È una cosa Dolcissima Orca puttana Gran giocata di Yeboah Che oggi sta Davvero Facendo di tutto Facendo un po' il cazzo Che gli pare Su quella fascia La riceve di nuovo Ora Angolo No Ma perché fischi cose Che non esistono Dai Merda Ma sto andando Sulla palla Sì sì Esatto È È È l'equivalente Di un baby villager Uguale Che poi vi giuro È È È enorme Siamo andati Dalla pediatra Peso Cinque chili e mezzo Aiuto È È È un bue Un vitello Una Mucca Qualsiasi cosa Sia turbo pesante Un cucciolo Delevante Cosa ha fischiato Mo Cioè Tu hai fischiato Questo calcio Di rigore Ah perché L'ho toccata Di mano Vabbè Bravo Alvarez Sì 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 Ha preso Dal papà Ha proprio Preso Dal papà E poi abbiamo Scoperto Che ha un difetto Genetico Nulla di grave Nel senso Però ha questo Piccolo difettuccio Che prende tipo Una persona Su diecimila Pog Nulla che gli Impedisca Di vivere Una vita normale È A A Seed Però C'è Che figo Tratto Distintivo Pog Bravo il Misuni Peccato che Il pallone Si è finito Esattamente Ai piedi Di Mishor Che è partito Ora Inseguito Da Zui Vidovic Ancora Mishor Vidovic È distrutto In sta partita Yeboah L'ha portato Al bar Reiterate Volte Krynac Pala fuori No no Non ha nulla Di extra Non ha neanche Nulla di Di mancante È semplicemente Così Alla pinna Trovita La sua prima parola Sarà A me A me A me A me A me Vaffanculo Va Queste saranno Le prime parole Di Sid Tudor in area Col mancino Iker Alvarez In angolo Fuori Sacek Dentro Toirov Dentro Ibertsberger Previdovic Che È cotto Poverino Non ce la fa più Però va bene Nel caso Mettiamo dentro Udo Con Polulu Che mi scala Sulla sinistra Fuori Bravo Djukanovic Kamerknecht Vai contro piede Vai contro piede Listes La tiene ancora Lungarese Vicino La bandierina Djukanovic Destro a giro Trelovski In angolo La tiene addirittura Dentro In realtà Arsenic Può far ripartire Rakov Adesso Con Tudor Tudor Fino in fondo Il numero 7 Ancora Tudor Kamerknecht Gran giocata Del difensore Cingalese Errore Di Ciappett Iker Alvarez Rimedia L'erroraccio Di Ciappett Culo Parato Lederman Toiro Volemente fuori Di testa Sorescu Ciappetta Ancora Rakovitan Yeboa Krenac Dove Fallo Ok Attenzione Ora Rhein Rhein Sorescu Sul pallone Va al numero 16 Diretto in porta Il Misuni Con la testa Gliela toglie Dall'angolo Alassan Baba Alassan Vede Serve Listes L'autore Dell'1-0 Ancora Lungherese Apre Per Ibertsberger Appena entrato L'austriaco Ibertsberger Cross in mezzo Toccato di mano Da Sorescu E allora Dal dischetto Si presenta Fimico Pululu Contro Trelovski Spiazzato il portiere 2-0 Giagiellonia E possiamo fare L'altro cambio Dentro Udo Per Sì Per Djukanovic Con Pululu Che mi gioca Solo di sinistra Karim Un bacio Un abbraccio Nella speranza Che una volta finito Lei possa Dicendo cose religiose Ritrovare la retta via Ma Non hanno nulla a che fare Con la religione Un bocca al lupo Per Il rientro Diciamo Alla vita normale E mi fa piacere Che i video Possono essere Una distrazione Bene comunque Vittoria Contro una diretta Concorrente Che serviva Bravi tutti E merito Dei ragazzi Bustiamogli La felicità Avremmo potuto Vincere Con più gol Ora Ruttino tattico E siamo ufficialmente terzi A meno otto Dall'Eck Poznan Con dodici partite Alla fine Ora Non so se ce la faremo Dubito fortemente Ma intanto Contro Il Corona Chielce Direi di Direi di Se riesco a parlare Simulare lento Per vedere come va Perché sono squadre Di medio-bassa classifica Contro cui Se gioco È più facile Che prendere l'imbarcata Rispetto al vedere La partita simulata Quindi vai Simula la partita Dobbiamo sperare In qualche passo Falso Del Dell'Eck Poznan Perché Battendoli Gli abbiamo Rosicchiato Tipo 5 punti Nelle ultime due partite Visto che Gli abbiamo battuti Prima E poi hanno pareggiato Siamo passati Da meno 13 A meno 8 Dovrebbero Faccapparne Tante altre Nelle prossime 12 Forse non c'è abbastanza Spazio di manovra Sicuramente Faccapperemo di più noi Buono intanto Per Djukanovic Djukanovic Finalmente Victor Djukanovic Per l'1-0 Giaghellonia Bene Buono Pululu Djukanovic Ancora L'appoggio Per il 22 E il Misuni Che spara a lato Peccato Listes Djukanovic Pululu 2-0 Bene 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 Oh Pululu ancora Per Listes Alassane Sacek Cross in mezzo Ribattuto Kammerknecht Ancora Sacek Alassane Listes Rischiano l'autogol Se facciamo 3 Se siamo 3-0 Sopra dopo il primo tempo Regà Schippo alla fine Ma solo in caso di 3-0 Se no continuiamo a guardarla Pululu Brava Fimico Che porta sul pallone Sacek Kammerknecht Ancora Sacek Zu Per Djukanovic Forenz La mette fuori Pito Vittor La bandierina Cross in mezzo Messo fuori Oh ma Possibile che non ci sia mai nessuno dei miei a prendere un impallo Alassane Djukanovic Cosa combini Quanto Equivocabile Quel nome lì però Posizione Interessantissima Per un tiratore mancino Come il nostro numero 10 Fimico pululu Ancora prima di tirare Stavo già insultando Fimico Fimico pululu Tu con la tripletta E bravo Fimico Fimico E bravo Fimico Bene 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 3-0 Grosso come una casa Pululu Bomber Indiscusso Dell'extra Classa Con 17 In 23 E con questi 3 punti L'Ekpoznan Fa K Ancora Perde E quindi da Meno 8 Passiamo a Meno 5 Signori Il campionato è Aperto Prima però Dobbiamo giocare Contro il Chorizov Ok in Guianba Devo effettivamente Venderlo Se no è la fine Peccato perché Vabbè Prenderemo una nuova Riserva per il Centrocampo O un nuovo Titolare Con In realtà Nessuno Che mi entra come Riserva Però va bene Ci penseremo Un prossimo anno Tanto vai a simulare Anche questa No no Col Chorizzo Devo giocare Col Vedi È il Chorzov Però per me Chorizzo È molto più facile Da pronunciare Vediamo Le abbiamo rifletti 4 E il Corona Chi è il C Chorizzo Per una squadra Ancora Ancora peggio Rispetto ai Giallorossi Altro calcio Di punizione Questo Da posizione Assai più Defilata E allora Faremo tirare Proprio lui Il nostro numero 17 Viktor Djukanovic Vediamo se Con l'esterno Riescerà a superare La barriera In filata All'incrocio Parte Viktor Palla sopra La barriera In porta Ci arriva Listes 1-0 Va bene Listes Capito Listes Listes Uccidetevi Giaggelloni Avanti Contro Il Ciorizzo Peccato Un altro gol Su punizione Sarebbe stato Bello Sarebbe stata Una gran figata Con calma Ciapet Bravo Ciapet All'istes E poi ripartiamo Kammerknecht Pululu Per Djukanovic Palla ancora Da Pululu Che non ci pensa Mezzo secondo E insacca Alle spalle Del portiere Il passaggio Perfetto Al bacio Di Idris El Misuni Regà Stiamo Viaggiando A Velocità Assai considerevoli Pululu Lo scambio Con l'istes La perdiamo Alassane La riprende La riprende anche lui Palla per il numero 96 Del Ciorizzo Che serve Targot Turgot 2 a 1 Ciorizzo Peccato In caso di 3 a 0 Sarei andato alla fine Così invece no A meno che non se ne facciano 4 eh Figlio Che si è mangiato Peccato Ma comunque Sì io le punizioni Quest'anno ho imparato A batterle Molto meglio Rispetto a Il vecchio sistema Delle punizioni Questo Mi piace di più Che ralva Le scola parata Per fortuna Hernandez L'appoggio Al 24 Che la porta sul fondo Bene Comincia il secondo tempo Non ricordo quanto tempo fa Era che Si stavano in maniera diversa Le punizioni Ma Non so quanto sia passato Bello Alassane Non ricordo quanto tempo Si è passato Da quando Le punizioni Si calciavano In maniera diversa Forse era due FIFA fa Era su FIFA 22 Però con questo Con questo metodo Mi trovo infinitamente meglio La doppietta di liste Signori Ne troviamo anche un quinto Doppietta per Pululu Che sale così A quota A quota 19 In campionato Il Lech Poznan vince Rimondiamo in scia Sempre a meno 5 E mancano 10 giornate Si può fare Allora Il Zaglibi Il Lublin Prima mi ha fatto bestemmiare Si è quella A cui ho regalato Il rigore ignorante Direi di simulare Anche questa Stiamo andando bene In simulazione Quindi Perché dovrei giocare A maggior ragione Se le magliette Fanno così cagare Solo per quello Io questa la simula Su FIFA 22 Avevi il mirino Eh sì Vero Bravi So che tanti Preferiscono il mirino Ma secondo me È questione di abitudine Io che non ero Abituato a quello Questo metodo qua L'ho imparato Molto prima Ma sapete forse Perché Perché io Il primo FIFA A cui abbia mai giocato Che era FIFA 05 FIFA 2005 Pardon era Perché poi è diventato 06 Dall'anno dopo Che hanno tolto Il 2-0 Iniziale E Su FIFA 05 2005 Pardon Era esattamente così Che si calciavano le punizioni Dal 2006 Poi è cambiato Ma nel 2005 Si calciavano così Sì lo so Sono vecchio Che ci volete fare Adams Chi trovò il quarto Gol in due partite In questo campionato Contro il Gaghellonia E la cosa Mi piace poco Una sconfita adesso Vorrebbe dire Addio campionato E semplicemente Lotta per l'Europa Che comunque Porterei avanti Con grande onore Eh però Se posso scegliere Di lottare ancora Per il campionato O soltanto per l'Europa È ovvio che io provi a Lottare per Uno scudetto Mio Dio Magli orribili Magli orribili Magli orribili Siamo sotto 2 a 0 Contro il Lublino Che continua a confermarsi Un po' bestia nera Di Questo Gaghellonia Che cazzo fai? Fra Ma perché? Madonna Non capisco un cazzo Chi è mio Chi è loro Aiuto Mi piace poi Che sono entrato in campo Come se effettivamente Potessi aiutare La mia squadra E non peggiorare La situazione Che carino Che sono ogni tanto Quando credo In me stesso Una lepa Pienko Adamski Bravo Ciappetta Se ne prendo un altro Esco Se lo segno Spero bene Incrocio le dita E continuo a sperare bene Allora Pienko Mamma mia Pensavo fosse entrata Sta palla Non capisco un cazzo In sto game Perché io sono giallo-rosso Loro sono Arancioni e gialli La palla è gialla Le linee del campo Sono arancioni Non si capisce Una sega C'è sempre Solo lo stesso Colore ovunque O no Non ho nessuno Ah cazzo Non è la mia Fa culo Schimt Davrovski Pienko L'appoggio Da Makovski Non gli tocco più il pallone Non so neanche dove stia andando Mano Oh finita Finita 4 a 1 Va bene Ci credo Ci credo tantissimo Vabbè Partita che presumibilmente Ci riporta A meno 8 Dalla vetta E così è Ma ci lascia Comunque In zona Più o meno Semi quasi Europa No il terzo posto È la conference Quindi Cool Vai contro il Pias Clivitz Questa partita È stata È un peccato Perché con questa partita Ha 9 dalla fine Con 8 punti da mangiare Alla capolista E 7 alla seconda Probabilmente Il massimo A cui possiamo ambire È proprio questo terzo posto Dobbiamo Mantenere le distanze Da chi ci sta dietro È il contrario Di quando si sta in macchina Tu non devi rispettare Le distanze Da chi ti sta davanti Qua Ma da chi ti sta dietro Distanza di sicurezza Pog Ah Anti Distanza di sicurezza Semmai Il campionato Che finiamo stasera Forse no Vediamo Dubito fortemente Però C'è Con calma Ripartiamo Vidovic Sbagliamo Tutto Karbovi Caput Limpallo che finisce Tra i piedi Di Amejav Piaseczki Piaseczki Ancora Esista due cariche Piaseczki Entra in area Difende bene il pallone Iker Alvarez La mette in angolo Ah mio dio Unstoppable Piaseczki Il Misuni Mette fuori Rainer Non penso sia lui Karbovi Si gira di tacco Per Zizek Bravi Iker Sacek Kamerknecht Bravo a cercare Alassan Baba Alassan In verticale Me la dai Arbitro? No me la da Listes Merda Zizek Questi mi dann fastidio Per come giocano Questi vanno Di spalle Di fisico E si girano Su se stessi Per lasciarti sul posto Ma fan tutti così eh Già l'ho visto Più di una volta Non so chi abbia fatto Quella chiusura difensiva Claudione Kamerknecht Giocatore monumentale Kamerknecht Zizek Ah ecco Volevo ben dire Beccati questo Un po' più forte Forse Forse riusciamo a A gabbarlo Il portier Avversario Bravo Fuori gioco Di affimico Ovviamente Vediamo di quanto No non la carico sul canale La carico sul secondo canale Che è Tearless Live Dove ricarico le dirette Fuori gioco è la netto Di affimico Temporeggiato un po' troppo Listes Ancora una volta Con gli occhi dietro la schiena Riesce a servire Questo giro di Jukanovic Ce l'abbiamo noi Sa c'è Kamerknecht Torniamo indietro Lutonda No nella mia squadra Ce n'è di più E negli avversari Che quando c'hanno i nomi In polacco Qua è un casino Da andarli a pronunciare Ho un difensore Che effettivamente Ha il cognome Di 13 lettere Di cui soltanto Una vocale Per come siamo abituati A leggerlo noi Ovvio che poi magari In polacco Ci sono delle vocali Nascoste No Che palla di Baba Lassan Fra Fra Lascia fare Lascia fare come siamo usciti bene Ah Vidovik Riassunto Ero partito con tanto hype Sto finendo con molto meno hype Ma comunque in zona Europa Che Diciamo è il minimo sindacabile Per questa squadra Molto valida E che Nell'extraclasa polacca Dovrebbe fare molto di più Comunque Ci hanno zero dribbling Alcuni Si fanno fermare Dall'acqua Qualunque Ma cazzo Ma come la finire L'azione È vero che la Y Non è una semivocale Rhythm Comunque sapete che in generale la mia parola preferita Di sempre Mi rendo conto che sia una cosa turbo stupida Ma la mia parola preferita di sempre È una parola inglese Ed è la parola che si usa per Coda Fila Cioè Q Che voi direte Vabbè Q Come si scrive? Si scrive Qewe Ci sono quattro lettere mute E una Q Che è l'unica che pronunci È bellissimo Listes Pululu Pallone che rimane lì Sacek No Sacek Peccato Qewe E il Misuni I tristi odio Guarda No Zu Zu che minchia fai? Zu che cazzo fai? Deficiente Scemo Cretino Pagliaccio Gol del Pias Gliwitz Questo gol Buon uomo Ma lei Lei è sempre fuori di testa Grazie È bello Io mi sento sempre in colpa Quando arrivano queste mega donazioni Cento euro Sono un botto Fra Grazie uomo Davvero gentilissimo Tantissimi cuoricioni In chat per te Io sto bene Sono snervato dal gioco Ma sto molto bene Però stia bene anche lei Buon uomo Mezzo dribbling Che sia uno Non è impossibile Da farlo Caput Sono io Quello caput Qua Peccato qua Mio Dio Mio Dio Mio Dio Che fastidio Niente Ora mi superano anche per quello che riguarda la zona Europa Quindi sono io il danno Ma perché? Ma fatti i cazzi tuoi dove stai prima Vi ricordo che siete dei 65 di overall eh Non dei 90 di overall Stai giocando contro il Liverpool e venisi asfaltato così Direi Vabbè Ci sta Contro il Pias Gli Vizze Se perdonatemi Gira il cazzo Va Sentite devo vendere in Guianba Già Yellonia Bello Lo apprezzo Ok Siamo sempre a più tre Lasciamo perdere le prime due Nonostante adesso debba sfidarne una Ha chiesto la cessione anche Yunus No eh Oh Wilitti 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 Willy Willy Wilitti Ho bisogno di altri due centrocampisti l'anno prossimo Bene Bene Buono Poi a goderti la Germania Buon uomo 2 milioni e 4 Allora Allora Andiamo a bustargli il morale Via Sì esatto Regent Esattamente quello Il titolo non è che si sta allontanando È già lontano Anzi l'unica cosa che possiamo fare è Permettere in questo momento a Lech Poznan di Prendere in largo sull'Eghia Varsavia Dovessimo battere adesso il Legia per l'appunto E famolo Mamma mia Che tristezza dai Mi era appena risalito l'hype Tipo dai Sei cazzo Dai Siamo a meno 5 Dalla capolista Woo Dai che li andiamo a prendere Vamo 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 E poi niente Ne ho perse due di fila Sono a meno 11 È stato bello Chi si è visto Si è visto Il campionato è andato a puttane Devo giocarmi ora l'accesso in Europa Per farlo però devo smetterla di perdere partite stupide E continuare a vincere le partite importanti Perché se notate Contro le squadre buone Io sto vincendo sempre Ed è regolare È regolare l'Istes È regolare l'Istes È regolare l'Istes Tobias Gran miracolo Ducanovic dentro Davidovic Fallo di Josue Secondo me lì Ma va bene Come Carvajal Spero sia un altro Carvajal Sì è un altro Carvajal Dai Alla maglia numero 8 Gioca esterno d'attacco Non penso sia lo stesso Non penso sia Dani Carvajal Finito accidentalmente A Lega Varsavia Sì vabbè poi Oh no Limbu sta pensando al ritiro That makes me very sad Vattene 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 Kieran vattene Tu qua che spero che prego che imploro Che ciò accada Levati dai coglioni Kieran Rodriguez Kun La giocata di Kun Un coglione Un coglionazzo Un pirla Un deficiente Un turbo idiota Un fallocefalo Ciappet Torna indietro Buona Iker spazzala Alassan Pululu Buona la sventiliata di Pululu Per Djukanovic Va a cercare Listes Vidovic Cross in mezzo da Pululu Palla sul mancino Tobias Sacek Listes Alassan Kammerknecht Cross Troppo sotto per Tobias Ma non era male l'idea Dai finisce Tra qualche partita L'undici Ripeto Un altro 20 minuti Stiamo in live circa Quindi lì Fallo Albero Albero Sono No Non li tiri giù Bravo Iker Guarda Tobias Buon portiere Se preso inizio carriera Tobias E' uno di quelli Che ti fa la differenza Bello per Vidovic Yuri Ribeiro Mustafaev Stai di fuori gioco Non lo sarei preso Bastardo E' partito Mustafaev Lungo l'out di destra Ciappet Carvajal Ancora Mustafaev Carvajal Sul fondo Non ho visto la partita Però Oddio Ho visto gli highlights Atalanta Ha subito un botto Ma quando ha dovuto attaccare L'ha fatto bene Che è giusto Con una squadra come il Liverpool Che cazzo vuoi fare? Soprattutto se sei l'Atalanta Tutto il rispetto per l'Atalanta Ma non è il Liverpool Così come Forse una squadra in Italia Potrei dire che se la gioca con il Liverpool Mark Wall 1-0 Via Varsala No sono contento Fa piacere Poi soprattutto Uno perché in Europa Le italiane le simpatizzo sempre Due Cazzo è una underdog storia L'Atalanta che batte il Liverpool A Danfield Prima squadra che ci riesce Tipo in un anno e mezzo Clamoroso Allora Siamo sotto una 0 E darci una svegliata A partire da Questo gol di Afimi Posso fare un rewind Posso tornare indietro Al momento prima del tiro Non chiamarli sottocani Non so se l'anno prossimo farò la carità col Suttiro Lo sapete? Quanto meno non all'inizio dell'anno Se proprio proprio Mi sa che inizierò con un'altra squadra Magari il Suttiro lo prendiamo più avanti Tipo nella parte finale dell'anno O anche adesso Tipo ad aprile To Minchia mi ha mandato al bar Carvajal Ma è un furtissimo sto Carvajal Suttiro lo spiegato Suttiro lo spiegato Per un'altra squadra Ma è un'altra squadra Ma è un'altra squadra Lì Vidovic ha fatto quanto più di sbagliato potesse fare a livello di movimento Invece che continuare tagliando Si è fermato per stare dietro a Djukanovic Faccio una fatica bestia a dribblare Ho entrato il mico e trova il suo ventesimo in campionato 1 a 1 tra Giaghe e Lonia E Leia Faccio una fatica bestia a dribblare comunque Madonna clamoroso Tra l'altro l'Atalanta in due partite contro il Liverpool ha il clean sheet Cioè parliamone Sì Djukanovic Sì Djukanovic Sì Djukanovic Per Pululu Pululu Il palu gol L'abbiamo gestita bene L'abbiamo gestita alla grande Un gol che ci riallunga le distanze Sul Radomia Kradom Attualmente quarto E che forse Indirettamente Pone anche fino alle speranze Del Lega Varsavia Di raggiungere Di agguantare il titolo Lo scudetto Il trofeo dell'extra clasa Dato che adesso c'è il Lega Varsavia Alla rincorsa del Dell'Ekpoznan capolista Alla Sand Ma io ve l'ho detto Io gioco bene le partite contro le top Del campionato Contro quelle scarse Figa Oh li prendo sempre In ogni In tutti i luoghi In tutti i mani In tutti Non lo so cosa Cosa ha fischiato Tocco di mano Tua mamma Tocca di mano London Derry Derry Sì effettivamente Mi sa che il Radomia Cradom È l'equivalente Tipo di un Cremonese Cremona Di un Genoa Genova Rigore Ovviamente Listes col braccio Ovvio Ne avevano bisogno Quelli del Lega Serviva Di più a loro Il 2 a 2 Che il 2 a 1 Ma è vero Bastardi Bastardi Vi ammazzo Djukanovic Che Ripeto Continua a essere usato In momenti Poco opportuni Perché sembra Che io C'abbia da incazzarmi Con qualcuno Invece no È semplicemente La parte di telecronaca Niente A sto punto Aspettiamo Teniamoci Sto 2 a 2 No No Sì Ciappet Sì Sì Ciappet Bravo Palle Ho detto Palle Ho riso 2 a 2 Colleghia Va bene La peggiore Dell'ipotesi Siamo a più uno Sul Radomia Cradom Così va È il calzio Si aspettava di più Match equilibrato Sì effettivamente Lo è stato Hanno giocato bene Allora il primo tempo Meglio io il secondo Ma poi ho dato Quel rigore all'ultimo È Rip Comunque il Radomia Cradom Ha perso Marakov potrebbe Effettivamente Avvicinarsi A questo punto Ok In Guyamban Tutto ciò Venduto al Vittoria Ghimarayesh Tra un po' Vedremo anche Junus sa Venir ceduto E ripeto La cosa Mi dispiace parecchio Che ho impegnato Con le nazionali Alassan E l'Istes Oh beh ci sta Ciao Manu Allora contro il Varta Poznan Io voglio giocare Perché è una squadraccia Che lascia sempre Delle voragini In difesa E quindi voglio giocarla Per vincere Psicodramma a Modena Che succhera So che stava vincendo Il Catanzaro 2-0 3-1 Cazzo Peccato per il Modena Perché la squadra Da playoff Ce l'ha anche Mo' sta sotto Il City E rischia addirittura La zona Playout Signori Bentornati a Poznan Paraparapapipipapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Ah, Manu non ha l'audio appena letto Vabbè, Amen Poco importa Alassane Bella merda Di passaggio Tirù Dai, dai, dai Pressing, pressing Alassane Pressing Bravo Djukanovic Palla alta Peccato Grobelli Palla lunga Vidovic Djukanovic ancora Listes Piallato male E allora ripartono Savic Miguel Luis Savic ancora Matuszewski Bello lo scatto del 22 Lungo l'out di sinistra Matuszewski Cross in mezzo Vidovic c'è Listes e Djukanovic La riprendono Listes E fuori gioco Invece regolare Pululu 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 Pallone dato con il tempo Perfetto Da Listes Per l'1-0 Dell'angolano Che culo Stavropulos Mesgrani Buono Chopchat Con la testa A metter fuori Sì Djukanovic No Sì così Sì Idris Sì Idris Il Misuni Per Pululu Che cazzo fa il difensore Vabbè lo accettiamo Vidovic Pululu Zu La botta del giocatore di Singapore Palla che torna da Pululu Mano 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 Peccato Pululu sta segnando tanto Sì ma guardate che ha Fimic Una volta che Ingrana Lo fermi più Guardalo qua Che giocatorino Quasi Bel destro Fuori di poco Pululu Per queste squadre È un ottimo giocatorino Poi Ci si può fare Un'intera carriera Usandolo come punta Nella speranza che ti arrivi A diventare un 85-90 No Ti può diventare un 82-83 Ma un dignitoso 82-83 Che si muove bene Negli spazi Abbastanza fisico Molto veloce Con un buon tiro A me piace Pululu Come giocatore Su FC24 È ovvio che Avendo ormai Una certa età Il potenziale Suo Rimane comunque Bassino Wiesinger 1-1 Varta Pozzano Nel primo tiro Certo Però ci sta Il suo Il suo lo fa Ripeto In un campionato Come questo In una squadra Che Magari parte Da Medio-bassa Classifica Di serie No Vabbè Da Media classifica Di serie B In Italia O dalla serie C Inglese Pululu Il suo lo fa Alla grande Cosa ho visto I miei occhi Diukanovic Sì Diukanovic No Giallo Va bene Accetto La tarjeta Amariglia Miguel Luis Per Matuszewski Dal limite Bravo Kammerknecht Che ha previsto Il futuro E si è messo Nel posto giusto Al momento giusto Anzi con largo Antigio in realtà Allora Pululu Va via il numero 44 Riparta Poznan Simonovic Rinviene Su di lui Miguel Luis Che poi fa ripartire Selezione Mauro Rodriguez Bisinger Ci facciamo saltare Ancora Bisinger In area Mi sta portando Al bar Mesgrani Vidovic Bene 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 Ovviamente Su Football Manager Non è un granché Palese Palesemente C'è una ragione No Football Manager È molto più accurato Per quanto Mi Mi faccia male Ammetterlo So che purtroppo Il povero Affimico Se è finito A giocare Nel campionato Polacco Forse Un motivo C'è Anche se Devo Devo ammettere Il fatto che Puluru Stia giocando Nella squadra Che attualmente È prima In Polonia Mi fa ben sperare Perché io spero Porca puttana Listes Che il Giaglione L'anno prossimo Finendo in Champions O anche in Europa League O in Conference Possa poi Incontrare un'italiana E nel caso Andrei a vederlo Tanto tutte quante Le squadre Che per il momento Sono in lizza Per un posto europeo Sono nel Centro-Nord Italia Quindi anche abbastanza Facilmente raggiungibili L'unica un po' Fuori mano Sarebbe il Napoli La speranza è davvero Di non andare a Dover Vedere la partita A Napoli Ma sapete che Andrei anche senza Troppi problemi A vedermi in Giacchellonia Per Puluru Rigore Rigore Dritto per dritto Affimico Tripletta Unstoppable Affimico Is unstoppable 3 a 1 Il Varta Poznan È una squadra Imbarazzante Da affrontare Perché sono proprio Cioè in difesa Sono proprio schifo al cazzo Sto giocando Sovra pensiero E sto vincendo 3 a 1 Mentre le altre Penso troppo E perdo 4 a 0 Forse è quello Forse devo giocare Sovra pensiero Leggero Di testa Elegante Come una berlina Scattante Come un go-kart Bestemmioso Come Non lo so Qualcuno Che bestemmia tanto Cioè immaginatevi Un bel Bologna Giacchellonia Juventus Giacchellonia Milan Giacchellonia Inter Giacchellonia Cioè cazzo Io Mi fa Che bello Idris Il misuri Sìi L'intervento Di Djukanovic Per Puluno La ricerca Del poker La spara Alta Fimico Bestemmioso Come un Mi piace Listes Affimico prova a calciare col mancino Stavropoulos c'è Quasi andiamo una rimessa Dai cambi 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 Dentro Toirov Dentro Ibertsberger Dentro Skripchak Dentro Udo Che dai poi lui la sua tripletta l'ha fatta E dentro l'aranjero per Per il Giukanovic Che botta di Alassane Figa Una sassata Vuolo anche Alassane come giocatore Ma vi dico come squadra Sarà che ora sono completamente sballato Dal fatto che sto giocando nel campionato polacco E quindi fanno tutti un po' schifo di base Perciò avere un 74-75 Mi fa sembrare di avere un fenomeno Però cazzo Non mi ci trovo male Non avevo il tipo di giocatore che è Bava Alassane Listes a cercare Udo Palalunga dal numero 11 Messo giù Prego Arbitro Cioè mi ha ucciso il povero Udo E non era rigore Prendo l'aranjero Belcross di merda Ci arriva Toirov Non ci arriva Toirov No Srelak Fermate Srelak No no Live su Twitch non le faccio da settembre Streamo solo su Youtube adesso Goal regalato al Varta Pozna Ne sapete una cosa? Mi fermo qui Questa è Melina Così si fa Melina In questi casi No Giusto per sprecare gli ultimi tre secondi Non tutta la partita Maledetti Ok dai Vittoria Altra vittoria importante Ma cosa stai dicendo? Ma Sacek sta giocando titolare ad inizio stagione Ma che cazzo dici? Ma che cazzo stai dicendo? Che cosa minchia? Vai farfugliando Maledizione Stupido 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 giornalista Io ti licenzerei Anche se è dubito che non ci sia C'è dubito che ci sia un effettivo giornalista Credo che siano soltanto delle braccia volanti Comunque raga Posso dire che siamo messi bene? Ok Io non so Avendo tal darn Ho stato ok Posso dire che siamo messi bene? Magari Sì più 4 a 6 dalla fine Guardate cosa faccio Di cattiveria Sono le 11.25 Simuliamone 3 E vediamo come va Fermiamoci dopo il Gornik Zabrze Battiamo il Lodz 3 a 0 Battiamo il Pusha Il Pusha 4 a 0 E il Gornik 2 a 0 Io non devo giocare La risposta è che io non devo giocare E ci basta un pareggio contro l'Odz Adesso Per avere Una matematica qualificazioni in Europa Perché il Radomia Cradom è a meno 9 da noi Con 51 punti Con un punto Andiamo a più 10 Se loro vincono vanno comunque a meno 7 Perciò rimaniamo a più 7 Con due partite da giocare non possono più un cazzo Quindi direi di giocare adesso contro il Lodz Con script check che ha chiesto il prestito Può essere Ah si legge Wodge E quindi è Wodge O no Cosa scopro Tra l'altro loro hanno vinto Ok Ci basta il pareggio contro l'Uodge Dai Scendiamo in campo Ultimissima partita dell'anno Simuliamo le ultime due E poi dalla prossima live di lunedì martedì Non so quando sarà la prossima di FC24 So che sarà lunedì ma non so di che cosa Magari facciamo altro Wodge Wodge Salve amici Benvenuti su MyMBG Sono Greta Menchi Wodge La battuta è andata ormai Stai zitto Comunque si ci basta il pareggio contro il Wodge E siamo in Europa Ai preliminari di Conference League Pardon Le domande esterne le posso fare anche adesso Cioè ci posso rispondere anche adesso Mentre giochiamo contro il Wodge Minchia signor Kammerknecht Che cross aggressivo Purché siano domande Che mi facciano sentire Comfortable All'idea di rispondere Cioè se mi rispondete una roba che mi mette un po' a disagio Anche no Le ignoro Buono così E il Misuni Pululu Chiuso da Dankowski E Denk Ah ma lui ogni volta lo dico Carmona Crocs di Shrek Guardate se non fosse Se non fosse capitato Il drop delle crocs di Shrek In un periodo in cui sto cercando di Signor Vidovic Di tenere un po' di soldi da parte Perché devo ancora finire l'ufficio E la casa nuova in generale E per questo motivo sto Insomma Temporeggiando un attimo Ok Perché non so quanti soldi ancora Possano essere necessari Per il completamento di tutto Però Sì ecco Le avrei prese Tutto questo vuol dire che le avrei prese ma Avendo altre spese un po' più grosse Nella vita ho detto Temporeggiamo un attimo Allora La playlist Quella che uso È su Spotify Le playlist in realtà E l'autore Si chiama Stream Beats Strayam Beats È questo ragazzo Che ha fatto una serie di Di musiche con Vari stili Perché ci sono Oh c'è lo-fi C'è hi-fi C'è synth wave C'è Ambient Quindi proprio Quella che fa più quasi ambientale Che Che musica effettiva C'è del chill step C'è rock C'è un po' di tutto C'è idm Sono vari generi E sono tutti quanti copyright free Il motivo per cui Io e mille altri content creator La usiamo Ma niente Niente Diucanovic Tra l'altro Volete vedere cosa Allora Oggi Ho scoperto Dell'esistenza Di una playlist Di Spotify Bavio Esiste questa playlist Di Spotify Aiuto Non so parlare Però Allora In estrema sintesi Oggi Sono venuto a conoscenza Dell' Dell'esistenza Di una Di una playlist Stupidissima Ok Stavo andando a prendere Mia mamma In stazione Visto che è arrivata A Bologna E ho detto Meh Mettiamoci su un po' di musica Però Non Non voglio la mia solita musica Voglio cercare Qualcos'altro E come playlist Consigliata da Spotify Ho ricevuto questa Letteralmente L'intero script Di B-Movie According to The laws of aviation There is no way A B should be able to fly Punto It swings Ed è tutto Il dannatissimo Il dannatissimo Script Di B-Movie Sotto forma di canzoni Su Spotify Ci sarà tipo Keychains Cosa siamo noi A B o portachiavi Ricordo del museo naturale Di scienze A B Portachiavi Sono 8550 brani Sono 481 ore Di musica Di content Da ascoltare Chat lo facciamo in una stream Sbagliato per più motivi Uno perché 500 ore di stream È un mese Praticamente Su 20 giorni Due Copyright Youtube no happy Però farebbe molto ridere Eh la chat sceglie la musica È complicato Adesso su Youtube L'era già diventato su Twitch Nell'ultimo periodo Quindi figuriamoci su Youtube Dove Un eventuale Uso di materiale Copyrightato Viene sgamato In mezzo secondo In diretta proprio Fidovic Ciappet Alassane No Che è il coglionazzo Benvenzione Continuiamo a giocare Contro il Woj Primo tempo 0 a 0 Ricordo di aver creato Una tabella Contro le posizioni Della cam Nei video E una mappa Giugasser Fanni Sì effettivamente Sì Mi rendo conto Che è una cosa Che potresti Bellissimo fare Tu Riman Però io amo Queste playlist Stupide Mi fanno ridere Mi fanno ridere più di quanto Dovrebbero Ma poi ci sono Tutto qui Tutto qui E' una puttanata Però mi diverte No abbiamo preso Goal Sicuramente c'è anche una playlist Che si chiama Palle Se la cerchi Dove sono tutte Giugnante canzoni E non E non è imbattuto Tipo con 12 pareggi Che sarebbero Comunque pochi Comunque con 22 pareggi Che dice Vabbè Nei 20 e 12 Nei pareggiati 22 GG Ma non è che Dove abbia fatto Un campionatore No 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 33 vittorie Un pareggio Ma si 20 minuti 1 ora Stessa cosa Ricordatevi il saggio Paolo Meneguzzi Che disse Un giorno 1 ora Vorrei vederti ancora Quindi 60 minuti 24 ore Same shit Stessa cosa Un sabelenga Rizza Dormisi Lex Lazio Bravo Sacek No Sacek Oti Sejas Bravi Vidovic Per favore Vi devo chiedere Di saper fare Due passaggini Please Plox Ups Fai scorrere Fai scorrere Fai scorrere Bene Posto Bravo Djukanovic Tento Per Vidovic Cercare Listes E niente Cos'è successo Il nome Di Mammadov Aveva delle lettere Maiuscole Alcune minuscole Sono scemo O è successo Davvero Ah sì Le A In realtà Non erano A Erano delle Delle schwa Ma perché Memmedov Non è più Mammadov È Memmedov Magari è anche Più corretto Vabbè Comunque Abbiamo perso Control Watch Simulo Le ultime due Vaffanculo Vabbè Sentite Basta un punto Nelle ultime due Non le perderemo Entrambe Vero Non le perderemo Entrambe Vero 025 Incoming Schippa Fino all'11 Di maggio E piangiamo Assieme Signori Siamo in Europa Immediatamente In Europa 4 punti Nelle ultime due Chiudiamo La stagione Con 64 Punti Dietro L'Ek Pozna E L'Ek Varsabia Che Hanno Stradominato Il campionato Sono io Che rovino Tutto Apparentemente Non devo più Giocare La risposta È Questa Ora A livello Individuale Come siamo Andati 29 gol Per 14 gol E 15 Assist Per Listes Bravo Cristian E poi 7 7 Djukanovic 3 2 Per Sacek 3 1 Per Alassan E 1 21 anni 80 di Over Vale 43 Milioni Listes Probabilmente Lo vendo Anche intorno Ai 60 60 Qualcosa Mi posso Rifare la squadra Con Listes Sarei quasi Disposto A sacrificarlo Ma ne parleremo Nella prossima live Io per ora Non ho più voglia Di vedere Nessuno Di questo team Di questa squadra Basta Basta Mi hanno fatto Incazzare A sufficienza Splendori Vi ringrazio Per la compagnia Dopodomani Quindi domenica Alle 6 e mezza Uscirà Un Top Videone Di più di un'ora Dedicato al terzo capitolo Di Leighton Motivo per cui Oggi è uscito FIFA E non Leighton stesso E niente Voi fate i bravi Ci vediamo lunedì Di nuovo in live Non so con cosa Ma in live Ciao belli Buona serata Bye bye